Il coglionazzo, il fuffaro, il ragazzino che avevo nel mio soggiorno, tra l'altro non lo sapevo, mi sono presentato in ciabatte perché mia assistente ha combinato un casino, ha 9 milioni di patrimonio personale, quindi non stiamo parlando di idioti, ok? Non di scemettini. Consulenza dell'altro giorno, azienda che adesso ha 3 milioni, non nella formazione, 3 milioni e mezzo, 4 con 1 di utile e la traiettoria che ne fanno 10 il prossimo anno. Big, dov'è il master? Quindi dopo un po' cazzo, allora facciamolo, no? Io ho un livello di viralità e di morbosità pazzesco. Lui fa adesso broccheraggio di venditori, però venditori capaci perché io gli ho detto, guarda, uno dei problemi che abbiamo adesso, anche e soprattutto per colpa mia, è che quelli del 2018 non valgono un cazzo perché hanno questo stile di vendita improbabile, take away 6, tutte cose giuste, però adesso, no? La tendenza è dire, adesso sono subumani, sono freddi, no, sono normali, prima si suicidavano, adesso no. E quindi mi è capitato anche l'altro giorno parlarsi di una persona, faivo i venditori che chiamano, l'altro ha una voce, un po' così, allora non è interessato, clic, ma è così, ragazzi mi chiudi solo quelli iperchiudibili, adesso servono i veri venditori. Allora lui sta facendo questa attività, comunque va bene, adesso si è rilassato perché è passato un po' un periodo, un po' così per, diciamo, questioni burocratiche, pallose di Dubai, staglia la messicana, non posso dire, però ha risolto, immaginati, ok? Porca troppo. Sì, no, adesso ha risolto, ti defocalizzano queste cose, cioè sono delle immani rotture di palle, sono delle rotture di palle, tutto qui. Però sta bene, mi ha fatto piacere rivederlo, sempre in forma, arriva tipo vestito da mattina. Che poi all'inizio non aveva visto mai nessuno, cazzo. No, adesso il nuovo mito aziendale probabilmente è Ridolini, perché gli dicono, chi è Ridolini, chi è Ridolini? Il microfono lo devo tenere così, giusto, non sopportabile. Figa, oh big, quant'è che non ci vedevamo? Tanto, tanto, ti trovo grosso. Meno male. Io mi sono ringrossato, mi sto andando in palestra, io mi sto pompando, cazzo no, ma tu... Si vede, si vede. Sì. La gara aspetta, prendo la strada che aveva preso tua moglie. Ma quanto sollevi tu? Chi è il più forte? Io non sono fortissimo. Dipende. Con quanto rifai i bicipiti singoli? Bicipiti singoli? Sì, ma 18 e 18. No, di più, dai. 18 e 18 su 8 e 10 colpi, lenti. Quanto lì? Eh, appoggiato alla panca. Ah, beh, no, appoggiato alla panca così, in piedi, con una bella pronazione. No, di più, su 22. Anch'io faccio 22. Perché fa l'esecuzione che è bastardo. L'esecuzione. No, ma io basta che guardo i pesi e mi gonfio. Infatti entro in palestra in un modo, esco soprattutto adesso che ho viaggiato un po' tra aprile, maggio, giugno, così, ma io sarò allenato una volta al mese, è una cosa imbarazzante. Allora ero un attimo in Italia, poi devo stare attento dove vado in palestra perché altrimenti dove... Io chiaramente entro in palestra e è arrivato uno e fa, ma dov'è che ti ho già visto? E mi fa, no, ma tu sei uguale a uno di YouTube. E faccio, eh, sì, fa, beh, te l'avranno già detto, no? Gli faccio, sì, sì, me l'avranno già detto, solo che stavo scoppiando a ridere. Fa, ma sei tu? Cioè, però tutti molto carini, eccetera. Beh, l'Italia è impraticabile. È molto impraticabile. E però sono entrato sminchio e dopo 30 minuti infatti fanno, ma è vero allora che ti gonfi subito? Perché, sì, sì, no, poi dà fastidio che devi cambiare taglia dei vestiti. Sì. A te capita il... A me se c'è una cosa che mi dà fastidio. Quando entri... E l'hai detto bene, cioè l'Italia è impraticabile. Nel senso a me quando succede di girare magari un po' l'Italia per andare poi nelle palestre, entri nelle palestre, se c'è qualcuno che ti riconosce, è la fine. Perché poi te mi conosci, insomma, io non riesco ad essere... Cioè, non ti dico, guarda, no, lasciami perdere, cioè lasciami stare, non ce la faccio proprio, ok? Io sì, io sì, io sì. Tu sì, tu ce la fai. E ti è mai capitato che ti iniziano a parlare del business? Allora? Guarda, io fa, cosa faresti tu, io ogni... Oh, cattro, mi sto allenando. Allora, no, ma io evito, perché anche donna, lei si allenava in una palestra più mainstream, di quelle incasinate, a me non piacciono innanzitutto. Perché a me piace starmi, no, lo sai, a fatti miei, eccetera. Due o tre persone in palestra che se ti serve uno spotter, se sto rimanendo sotto la panca, mi sto spaccando una spalla, viene lì e magari mi aiuti. E lei invece va in queste palestre, diciamo, anche perché lei serve più equipaggiamento, no, facendo comunque le gare, eccetera. E fanno a non venire nella mia perché non è cosa. E a me è capitato tantissime volte di essere o guardato, osservato, oppure proprio... Il primo contatto è stato al bar, dove io ero a bermi il caffè, c'era uno che pagava e l'approccio è questo, penso che tu lo conosci. Si girano, si rigirano, prendono il cellulare e cominciano. Per controllare se effettivamente... E io ero lì qualche volta, andiamo, andiamo. E è arrivato, oh scusa, te lo devo troppo chiedere, a che... L'ho freddato, sì, sono io. No, bello, big, così va. Però è stato uggente, ho gli offerto la colazione, ero un ragazzino, così. E lì abbiamo parlato di business, ma mi ha fatto anche piacere. Se no sono sempre tra il cauto e lo spaventato, tipo era il McDonald's. Ne avevo tre dietro. Hai già la sensazione di avere tre che parlano di te, mentre tu provi a mangiare per un ex but... E per un paranoico, non è che quindi... Li sentivi che dicevi, lui, non è lui, sei coglioni, vai a chiediglielo l'autografo. No, ma vaffanculo, chiediglielo tu, eccetera. Ero lì che aspettavo, se uno mette la mano sulla spalla lo rovino. E allora fanno il giro, circunnavigano, uno mi guarda, io lo guardo. Deve averlo guardato perché è un po' incazzato. Perché stavo andando a comprare queste robe qui, ma welcome to Italy, c'è, è alle tre e un quarto, chiusi. Allora ne ho approfittato per mangiare un panino al McDonald's. Lo guardo, niente, non ce l'ha fatta, è ritornato anche a me. Ma che cazzo fanno? Vai in bagno, vai in bagno. Allora vai in bagno per vedere... E continuavano a fare, alla fine mi sfilano di fianco. No, manco per una figa fanno così. No, bravo, ho detto, se adesso vengono qua e dico, guardate ragazzi, avete lo stesso approccio con le donne, non vi sposerete mai, perché è escluso qualunque tentativo di... Però no, però devo dire, sono tutti molto rispettosi. E a volte li vedi che ti notano e non ho quasi mai avuto problemi. Mi è solo capitato in un bar, dove questo barista ha fischiato tipo a una donna come un cane. E allora io gli ho detto, scusa ma non ti sembra eccessivo fischiare? Ma fischiato perché... Andiamo? Come se fosse... No, no. Ah, perché, ok. E la ragazza era straniera. Cioè, non devi stare zitto, secondo me. Se fischi così a mia moglie, io vorrei che qualcuno intervenisse. No, poi l'era straniera non parlava. Allora lui è arrivato atteggiato, è anche educazione farsi gli affari propri. L'ho guardato, ho detto, cosa sono queste parole dure di un uomo duro? Don't speak English, mate. Come on, speak some English in passive, col caffè così. E lui mi ha detto, ah, tu hai sempre questa faccia da intelligentone. Perché dire sempre? Poi magari non lo so, poi vabbè è finita lì, mi ha lasciato perdere. Quindi mi sono fatto il film che magari lui poteva... Beh, è probabile. Soprattutto dire sempre. Però, capì, a Panama. Dappertutto. Però devo dire che anche, è utile dire ragazzi, non siamo nei giullari, quindi siete molto rispettosi, eccetera. Perché poi è un vantaggio di non essere... Cioè noi siamo persone conosciute di cui nessuno ha mai sentito parlare, come dice Dan Kennedy. Però lì tu capisci, per me è già l'Italia borderline per me. Perché mi sento che non ho privacy. E comunque ti guardano, ma anche per dire negli hotel, vedi che c'è il trattamento. Allora funziona così. Nel suo caso... Suo caso? Sì, sì, sì. No? Quindi hanno... Che è bello, però è già al limite. Perché comunque mi riconoscono già in molti. Però tu pensa, una celebrity... No! Non è possibile. Bruttissimo. Sì, sì, sì. No, è... Mi piace. È big. Cosa mi devi... Perché è questo sorrisino? Perché è questo sorrisino? E ripercorriamo un po' il... Allora, secondo me le persone ti conoscono in primis per la tua ossessione pubblica per fare soldi, accumulare soldi. Sì. Da dov'è che nasce? Ok. Allora, dipende cosa intendiamo per ossessione nell'accumulo di soldi. Sessione positiva, ovviamente. Cioè io la vedo positiva. Sì, allora diciamo una cosa su cui io sono molto focalizzato e ho un po', diciamo, introdotto la conversazione del mercato italiano è quello di misurare la performance aziendale e la propria ricchezza fondamentalmente in liquidità, no? Che è un concetto, se vogliamo, strano, no? Perché prima si parlava molto di reinvestimento, crescita, debito, però non era chiaro quale fosse l'obiettivo. E io invece ho, diciamo, introdotto questo concetto di mettiti via i soldi a massa, conto pila, liquidità, fai crescere la pila e dopo che hai la pila tu non fai niente, aumenta la pila. Poi si parla di investimenti, eccetera. Però abbi una correlazione oggettiva su quello che stai facendo e alla fine della fiera conta il cash. Non le aziende operative che hai, quello anche, però la ricchezza e il cash così. E ti devo dire, e quindi io sono molto focalizzato e, diciamo, insegno, divulgo, consiglio, di essere focalizzati nell'accumulo della liquidità che poi può essere investita, però investita, poi non so se tu ne voglia parlare in investimenti, cioè in investimenti veri. E ti dico che il pattern che io ho visto tra i miei studenti è questo, cioè il non capire l'investimento dal guadagno e il non accumulare. Cioè, se io ti dovesse, di lui, mi chiedi, Big, dammi un consiglio, è forza il risparmio, aumenta la pila di cash, separa il patrimonio che tu hai da quello che il patrimonio te lo genera, quindi c'è l'azienda operativa, c'è la Big Luca International, che genera il cash o l'agency o quello che è, o hai la tua attività formativa, qualunque tipo di cosa, devi separare dalla tua azienda operativa dove hai il rischio imprenditoriale e bisognerebbe parlarne perché il rischio imprenditoriale tu sei, quando fai soldi, sei nel 0,1%, perché 95% mi sembra che sia la statistica aggiornata, 95-96, hai chiù dentro 10 anni, dopo 10 anni, ma anche facciamo dopo 5 anni il 90%, quello che non capiscono le persone è che dopo 5 anni non è che ne sono fallite 90 e 10 sono diventati milionari, no, no, 10 non hanno portato i libri in tribunale, non vuol dire che vadano bene, cioè letteralmente sono burocraticamente ancora in piedi, ma se tu separi quelle che sono profittevoli, quelle che anche rilasciano dividendi dove l'imprenditore a capo, socio diciamo, della struttura si è anche arricchito, parliamo del nulla, quindi quando questa situazione ce l'hai, occhio a quello che fai con i soldi, perché non è detto fare soldi, non è, cioè quindi li stacchi e separi, così se ti parte una cosa o se non la vuoi più fare, no, c'è una categoria lavorativa dove a volte le persone si alzano e dicono ma veramente un altro corso, ma veramente un altro, non so se sapete, non so se la conosco, sì, esatto, no, a certo punto dice, ma veramente, calme, aspetta un attimo, deleghiamo, sottodeleghiamo, sbrandit, perché anche giusto, si chiama vita, c'è un percorso, no, e quindi accumulare il cash e non essere nervosi di reinvestirlo, di riusarlo, consulenza di poco tempo fa, questa persona, di cui ovviamente non farò il nome, mi ha detto io ho 4.5 milioni di dollari cash in un conto solo, peraltro, questo è un altro discorso serio da fare, Big io ho paura di investirli, io ho detto, senti, ascolta, se hai paura non farlo, certo, e lui mi ha risposto io comincerò a investire quando arriva 10M, gli faccio, ti ritrovi, se tu non hai investito e non hai preso indici, non hai preso immobili, eccetera, a 4.5, non lo farai neanche da 10, però ascoltami, va bene, cioè, ma cosa vogliamo fare, 0? È molto meglio che uno mi dica, ho 5 milioni di dollari liquidi, sì c'è l'inflazione, intanto lui c'ha 5 milioni di dollari e tu no, intanto lui è libero, io ho nella sacca 4.5 milioni di dollari, quindi, l'aumento del patrimonio, e l'accumulo vero del tuo patrimonio, non solo di aziende operative, piuttosto che di altre cose, perché, quando sarà buio, quando sarai stanco, quando ti alzi e non cenai, le aziende operative sono una grande rottura di scatole, anche che sono incredibilmente delegate, io ho delle aziende che sono incredibilmente delegate, bello, bellissimo, allora tu non fai niente, cosa vuol dire non fare niente? Io non faccio niente, ma io, se quell'azienda ha un calo di vendite, ti faccio un esempio, mettiamo che l'azienda non incassi, ok, beh, l'azienda è un SRL, un LLC, poi ci capiamo, io sono socio, in teoria non è un mio problema, e, lo è o non lo è, cioè, ci capiamo, quindi hai comunque l'operatività, sono i miei soldi, ti dicevo, no, che recentemente, abbiamo avuto un piccolo problemino, io ho non fatto parecchi milioni, e li ho non fatti io, quindi a questa cosa ci penso, e quindi le aziende operative sono una cosa, devi staccare, pensare, e la vera gara è sul patrimonio, per quello che mi riguarda, ed è un pattern che io ho visto, rivisto, 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 over and over again, quindi confondere queste due, reinvestire, ho creato altre aziende operative, e questa cosa non va bene, perché uno a un certo punto tenta di barare, cena di ieri con un mio amico, che sta guadagnando bene, e allora dice, ok, adesso il cash sul conto pila, adesso inaugura il suo broker, e si sta facendo il conto per l'immobiliare, no, io consiglio avere conti diversi, così una cosa non contamina l'altra, e quando tu compri una casa, non ti scende la pila, o ti scende la borsa, ti scende la pila dell'immobiliare, tutto il resto è stabile, quindi una cosa non contamina l'altra, e tu sei stabile, non ti comincia a fare i discorsi mentali, i calcoli, oddio quanto ciò, ce li ho in euro, in dollari, gli faccio un intercettro, e lui ovviamente ha capito una delle cose, che tu capisci quando guadagni tanto, e cominci a avere quella che chiamo la dietrologia patrimoniale, cioè è lunga, anche con 100k al mese, vivi con 20, te ne rimangono 80, ma se tu vuoi contribuire, sempre un po' magari tenerti cash da parte, dopo un po' magari puoi smettere di accumulare cash, e fare solo gli investimenti, però io a volte il cinquantello in più di cash, che non va mai male, e poi dici, gli indici per dire, faccio un piano di accumulo, ma lo voglio fare sostanzioso, anche perché sono uno che guadagna 100k, e allora ne metto 20-30 di qui, e poi ne metto 20-30k nel conto immobile, e fa, ma io l'immobile me lo compro tra un anno, quindi è uno l'anno, esatto, e allora, uno tenta di barare, faccio più aziende operative, più crypto, per pampare i 100 a un milione al mese, per poi metterli di, aumenti il rischio, e bisogna stare molto attenti, e quantomeno, fate pure le vostre attività, le vostre cose, ma non date per scontato, quello che state facendo, e dovete metterli, per quello che mi riguarda, questo è quello che faccio io, ok se ti sta piacendo, questo episodio del podcast, fammelo sapere, metti un like, lascia un commento, e ti risponderò personalmente, inoltre, se vuoi capire, vuoi iniziare a creare, quello che è il tuo business, online, e lanciarlo, entro i prossimi 30 giorni, sta iniziando proprio adesso, una sfida di Ulama, in cui ti guidiamo giorno dopo giorno, ad ideare, creare, lanciare, e monetizzare, il tuo business, di vendita di corsi, consulenze, oppure di prodotti digitali, è praticamente gratis, l'unica cosa che dovrai coprire, è l'esperienza di stampa, spedizione e imballaggio, del box fisico, che ti mandiamo a casa, vai su www.iltuoprimocorso.com, e puoi iniziare oggi stesso, ora torniamo all'episodio, quello che ho visto funzionare, dovete metterli in strumenti, che non possono andare a zero, questo è il primo criterio, può andare a zero, l'azienda può andare a zero, sì, non è un investimento, ok, che sia passivo, e che abbia un track record storico, controllabile, dove tu non ci lavori, quindi nel mio mondo, io parlo di quello che faccio io, sono investimenti in indici, azionari diversificati, broad base, molto sim, non la complicate, perché ve la vogliono rendere complicate, e non lo è, immobili a reddito, senza il debito, e poi uno può avere anche un portafoglio conservativo, per esempio di bond, all'inizio no, potremmo stare qui a parlare, altre ore, le persone, e scambiano l'accumulo, con la rendita, accumulo bond, no, tu i bond, quando hai un taglio da un milione, vai in una banca, svizzera, guardi, fatemi rendere il milione, o con gli immobili, no, tu accumuli immobili, sì, ma due o trecentomila alla volta, quindi in realtà, ma un piano di accumulo in etf, col tempo, con l'interesse composto, è qualcosa di completamente diverso, quindi diciamo, questa è un po' la mia visione, sull'accumulo, e l'ossessione non è neanche tanto sui numeri, eccetera, è l'ossessione sul modello, cioè io ho avuto modo e maniera, con le consulenze, eccetera, avendo parlato con tante persone, visto soprattutto il back-end, perché uno dei vantaggi è che noi vediamo quello che c'è dietro, e non solo, anche a personaggi, quindi ho visto molto da vicino, i personaggi noti, i personaggi non noti, i personaggi non famosi a livello influencer, ho lavorato diciamo con, ho una varietà di informazioni, e quindi vedo quelli che sono i pattern, quindi dico cavoli, ragazzi tutti, e non hanno accumulato, e non hanno avuto asset, e hanno un'altra cosa, è la casa, io sono molto cauto prima di comprarmi la casa, perché io ho solo che storia di terrore sulla casa, cioè prima casa, perché tu cominci a avere un paio di milioni via, ti compri la villa da un milione e mezzo, ma è sbilanciato. Ecco, quando secondo te, ad esempio io ho una casa, mia, di proprietà, sì, l'ho presa qualche anno fa, e in Italia, e in un fondo patrimoniale, mio e di mia moglie ovviamente, prima che ci sposassimo e tutto, e cioè quando poi ci siamo sposati, ma ovviamente rispetto al mio patrimonio è, piccolo, molto piccolo, ed è quello che mi serve, quando andiamo l'estate in vacanza, non è messa a reddito, ancora no, la gente continua a dirmi, dovresti metterla a Fiti Brevi, Airbnb, questa ti rende 7000 euro al mese, che non mi fanno schifo, perché non ci fanno schifo, però ci sono altre dinamiche, sai, anche quando sei sposato, poi gli è, no, dobbiamo fare un altro trasferimento, no, lasciamoli fermi, e tu dici, cazzo, ma sono 80k l'anno in più, senza fare niente, perché in quel caso sarebbe, c'è la scena, c'era il meme, il leone da single, di lui dietro la leonessa, che lo ha sposato, il leone in un angolo, con la leonessa che rugì, esatto, 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 ecco, cioè, sulla prima casa, io stesso sono sempre stato convinto, cioè, comprarti casa per andarci a vivere è sbagliato, no? In realtà io stesso non ci vivo, a parte l'estate, però neanche l'ho messa a reddito, perché non è in questo caso la mia priorità, o altre cose da, a cui pensare al momento, e diciamo che per ora è il poggiarobe che abbiamo in Italia, sì, pietate anche la base, capito, dove devo metterle le altre cose, per ora ce l'ho là, a posto, però, dal tuo punto di vista è sbagliato, quando è giusto e quando è sbagliato? Allora, non è sbagliato comprarsi casa, innanzitutto, vabbè, una grande discriminante che le persone devono capire è avere i soldi, non avere i soldi, la prima, come sempre, quando tu hai tanti soldi, le cose cominciano a ragionare in percentuale infinitesimale, perciò, a un certo punto, tutti noi sentiamo il bisogno di non stare in affitto e comprarci una casa, e può andare bene capendo le implicazioni di questa cosa, e il problema che io noto è questo, una persona inizia a guadagnare, mettiamo che tu inizi a fare 100k al mese, ok, di profitto, che ricordiamoci, non fanno tutti, parliamo di personale, non di... esatto, cioè, non è appannaggio di tutti, ok, anzi, sei d'accordo con questo, quindi, e ragazzi, sono cifre importanti, si possono fare, si fanno, non manchiamo di rispetto a certe cifre, soprattutto, farlo in modo costante, quindi, un mio dividendo di 100k al mese, benissimo, io inizio, e questo è molto comune nei business online, dove tu non capisci, non capisci, e poi è molto comune l'esplosione, cioè, io l'ho vista succedere, immagino anche tu, spesso, non è normativo, però succede, bam, un certo punto, cazzo, il funnel va, all'inizio è facile, basta che imbrocchi, il traffico costa poco, gli vendi l'offerta, e c'è porca miseria, un certo punto, in cui sembra che cagli veramente, 124 mila euro, ma cosa abbiamo fatto, che ti sembra veramente di rubare, con la sindrome dell'impostore, che dice, I'm getting away with something, non mi vedo, sei veramente spaventato, quindi, allora, alzi il tenore di vita, se non sei focalizzato, innanzitutto, sul risparmio, non hai risparmio forzoso, non hai il sistema, cioè, hai conti aperti, devi per forza forzare, ma li lasci nell'entropia, praticamente non metti via niente, alzare lo stile di vita è un attimo, ti parlavo prima di quello che io ho speso, negli ultimi due anni, che c'è da vergognarsi, perciò non ripeto la cifra, non facendo niente, perché fossi uno che posta Lamborghini, e tutto il giorno, infatti non hai neanche la macchina, io non ho la macchina, non ho neanche la bicicletta, non l'ho mai avuta, e non ho neanche la bicicletta, confermo, la di giro a piedi, sei proprio, allora, un po' di soldi via, cosa succede, tu hai lo stile di vita, magari da 30, 40, 50 K al mese, ma non hai avuto il tempo di metterti via un patrimonio che giustifichi lo stile di vita, ok? Quindi magari tu ti trovi centinaia di migliaia via, in realtà io ho notato uno stallo al milione e due, persone stallano al milione e due, ok? Molto pochi. Cioè che si fermano al milione e due? Milione e due, non chiedermi perché, milione e due, ok? Sembra perché avevano visto il tuo video del milione e due sul conto. a milione e due sono a posto, che poi, finto ovviamente, quel video lì, era una demo. Lì si cambiano i numeri, Con il CSS, cos'è che si fa? Ah no, con l'inspection. Assolutamente. Tutta leva o cose del genere. Vabbè, a parte questo, e quindi è un milione e due. E il problema è che un milione e due, 40 K al mese o 30 K al mese non è bilanciato. E la dietrologia patrimoniale ti arriva quando tu dici, ok, quanto ci mette il patrimonio a darmi quello che io spendo? E lì ti viene l'ansia. E poi comincia a fare degli acquisti che sono commisurati a quello stile di vita. Quindi mi compro una casa, perché se tu hai un milione e due via, guadagni 100 K al mese e ti compri 200 K di casa, ma compratela. Ma va bene. Guarda, che è uno dei problemi di vivere a Dubai, perché a Dubai non puoi fare questo ragionamento. Ma se tu sei in Europa, noi vivessimo in Europa, le case, 150, se sei in un paese, non parlo di metropoli e così, con 150 mila euro ti compri una signora casa, 200 mila euro, allora compratela, arredi, ma certo, ma va bene. Eh, ma se hai un tenore di vita oppure sei a Dubai, quanto costa una casa a Dubai da Dubai? milione, milione e mezzo? E allora, e perché a Dubai fai fatica a cedere ai mutui, ma se no, io dico sempre, tutti i vari, quelli che le persone chiamano molte volte a torto guru, fossero in America, avrebbero la penthouse da 20 milioni. Sì, 100%, a debito. Eh, ma ti comincia a rovinare, perché a un certo punto tu guadagni per pagare il debito, ma tu lavori per pagare i debiti che ti costano e non hai patrimonio. Quindi, quando prendere una casa? Innanzitutto, quando hai capito quello che ho appena detto e anche di più, quando capisci le implicazioni, quando capisci che la vita ti può portare da tante direzioni, dovresti prenderla quando? Tu sei sicuro di tornare in quel posto o di viverci per abbastanza a lungo. quando cresci e sviluppi fisime, ti faccio un esempio, a me adesso comincia a disturbare andare negli hotel a 5 stelle. Ok, perché? È un pattern che perché comincia a dire forse è meglio l'Airbnb o magari sarebbe meglio il nostro piede a terra dove è esattamente come voglio io, dove non devo indovinare la password del wifi che mi sbaglio nel cognome De Stefani e me lo mettono senza spazio. È classica se hai un cognome composto poi c'è chi ha quattro nomi e quindi... Paoli. Capisci molto, quindi Paoli, Paolo D, eccetera e dove hai le tue comodità e dove hai anche più privacy tra virgolette. Faccio un esempio, adesso sono in questo hotel non isolano molto bene le porte. Di solito a Dubai c'è molta privacy o poi non so che cacchio faccio io sto andando a dormire molto tardi in questo periodo tipo 5 del mattino sono a letto col computer che studio faccio le mie cose porte che sbattono. A primo tu dici ma cacchio fate alle 3 di notte che sbattete le porte e secondo sento la porta che sbatte. Se fossi nel mio appartamento isolato che mi posso anche mettere l'extra isolamento non sentirei. Quindi e poi paghi tanto molte volte hai poco dipende dall'hotel però avere dei vari pirater quindi quando tu sei sicuro di tornare in un posto e di viverci la puoi prendere e devi guardare che percentuale è del tuo patrimonio e di quello che guadagni e fare una scelta intelligente e la realtà è che per esempio una casa molto costosa tu la devi prendere quando sei veramente extra coperto perché rivendere una villa da un milione è diverso da rivendere uno studio è più lento e di solito tu la devi prendere quando poi non la vuoi più rivendere e la usi e io sono anche molto d'accordo per esempio con chi penso che ci riferissimo a tua moglie ti dice di non affittarla no? Perché è giusto primo le donne vivono molto diversamente avere estranei a casa tu provi a dire a tua moglie a me non frega niente la cosa è c'è un estraneo che ti tocca i vestiti cosa? in che senso ok? che è il motivo anche per cui la vendita dei vari sistemi di allarme antiladro viene fatto sulle donne in modo particolare perché c'è una differenza tra come la donna percepisce la minaccia come l'uomo percepisce l'intrusione a casa quindi c'è un marketing diverso come tu sai benissimo si discrimina proprio a livello di sex perché ci sono aspettative diverse però per esempio anche lì tu compri una casa e la devi mettere in affitto e se la devi mettere in affitto vuol dire non te la puoi permettere cioè io per esempio casa mia la metto in affitto no domani io compro un jet privato internazionale lo charterizzo no me lo compro solo quando spendere non so neanche se ci arrivo se lo farò ma è un livello molto alto e anche inutile tra virgolette costa 3 milioni all'anno da mantenere il jet privato internazionale ok lo compri quando di passività tu hai 20 milioni certo allora ok ma per avere 20 milioni devi avere 400 milioni investiti arriva a 400 milioni che cazzo lo charterizzo è strani che te lo rompono un cazzo è tuo mi capisci piuttosto che la bella macchina quindi se devo dare una percentuale non c'è e dipende ovviamente anche a che fase della vita se hai dei figli se hai dei figli è giusto è legittimo che tua moglie i tuoi figli tu gli voglia dare questa è casa nostra e nessuno ci sfratta a meno che non paghi cioè in realtà la casa non è tua perché devi pagare le tasse eccetera però la lascio ai miei figli tutti i discorsi interessanti dà anche stabilità non da ultimo se la vuoi personalizzare la casa in affitto è problematica noi abbiamo avuto sempre qualche problema in affitto io poi non personalizzo quasi niente però solo mettere un quadro a volte è un tema magari non hai voglia di parlare del quadro col tuo landlord quanto è lungo il chiodo ascoltami cioè va bene fammi la foto e quindi per una e la tranquillità ha un valore cioè quanto tu sei poco tranquillo perché il landlord può romperti le scatole io ho amici forse anche in comune che hanno detto per me questa cosa vale il milione che ho speso per la casa ok senti se per te li vale però dovete essere coperti diciamo che tutte queste cose si risolvono rapidamente avendo cash avendo un liquido perché se invece non ce l'avete e vi fidate dell'operatività per per esempio pagare un mutuo o pagare un affetto ecco qui che innanzitutto dovete continuare a lavorare e poi i business sono più sale più sono sino solidali a proposito del mutuo oppure nel senso il comprare casa vediamo se abbiamo le idee simili o discordanti dal tuo punto di vista cioè so probabilmente la risposta perché ti conosco da tanto è meglio cash compro tutta la casa subito cash o un buon mutuo con un bassissimo tasso di interesse fisso allora io non ho una lira di debito io anche su real estate posto il fatto che qui è un po' più difficile accedere al ci sono metodi in realtà per aggirare gli ostacoli se sei un buon cliente di qualche banca private è sempre utile eccetera vediamo ad esempio l'italiano classico che dice ok allora come sempre ci sono persone per cui il mutuo è l'unica opzione quindi qui bisogna è chiaro che se tu sei mettiamo che tu sia una persona normale fai l'impiegato eccetera per quanto io ti dico non stare solo impiegato non c'è niente di male ad essere impiegati eccetera ma fatti quantomeno ad oggi un business online per diciamo arrotondare cioè adesso signori non è se tu veramente se parliamo di 100k profit 200k e siamo in un ambito diverso 5-6 5-6 3k 2k per la gente un k in più è quasi uno stipendio quindi fa la differenza e tu sei abbastanza stabile eccetera fatti un mutuo e comprati qual è l'alternativa? hai 150 mila euro in banca? no e se li hai non puoi comprarti la casa perché capite? cioè per fare gli incisi devo guardare quella se tu hai 150 mila non hai soldi per comprare una casa da 150 mila non ce li hai che rimani a zero porca miseria ok però non è che abbiano molta altra soluzione ti ancori a un territorio e ogni volta che c'è un debito tu aggiungi friction e rischio io ho fatto per esempio un affare immobiliare dove ho comprato un immobile a 159 mila dollari ok in dirham 575 mila dirham no 92 metri due bagni ok condominio con palestra e piscina quanti anni fa questo? no qualche mese fa ah qualche mese fa ok è arrivata l'email tra l'altro ce ne sono due in vendita io ne ho preso solo uno cazzo dillo al tuo amico no no ce ne erano due ma ok no ma sono stato stupido io a non prenderlo io ho ricevuto siccome era nella stessa community della villa un'email dicendo si vende questo appartamento in realtà 595 guardo dico no non è possibile è una fregatura come si no la vocina fregatura di qua di là io però scusami mando l'email io lo voglio vedere questo appartamento perché esatto un appartamento poi 92 metri quindi cioè un bedroom di quelli seri certo io chiamo mia moglie scusa ma fanno cavoli andiamola a vedere io per si o per no il giorno prima mi sono fatto due bonifici ingresso a Dubai perché non tengo una situazione un attimo diversificata anche di quello bisognerebbe parlare però diciamo alimento il conto degli immobili alla bisogna adesso ho uno schema un po' diverso ma quella volta mi sono inviato 200 mila dollari a Dubai così ero pronto a staccare eventuali assegni sono andato a vederlo entro e dico ma non ha niente che non vada questa è una casa che va benissimo ho guardato a quanto affittavano quindi lo facciamo in dirham poi abbiamo donna ha trattato perché è non generale ci penso io togliti va bene ha trattato 20 mila dirham perfetto e 575 mila dirham ma io l'ho affittato a 80 mila dirham che ritorno è cioè ok ci capiamo e ma lì cioè how do you pay cash no mortgage no cash oh that's easier hai una una potenza certo benché non è che ho fatto un deal milione però non andare a mutuo perché poi col mutuo devi avere la banca che te lo dà devono venire a fare la perizia lunga vanno a provare c'è di mezzo la banca quindi il title deed della banca e chiaramente c'hai l'ipote e aggiunge e quello era un affare me lo sfilano perché se ci andavi tu pronto col cash capisci e e quindi questo è un piccolo esempio di quindi ho acquistato l'immobile tra l'altro ce n'era un altro che costava appunto quello costava 5,95 l'altro era 5,75 e gli ho detto guarda fammi 5,75 anche tu se no compro l'altro mi fa buy two fa oh really I would buy two solo che sai sei sempre poi due nello stesso palazzo e allora c'è aumenta il rischio invece invece io lì ho fatto l'ho preso da almeno 50.000 dollari in meno che è anche il motivo per cui io consiglio di rimanere liquidi perché lì ho compensato qualunque tipo di inflazione preferisco fare quello affare bam è una prontezza che comunque tu puoi avere e io ho acquisito un immobile che me ne rende come altri da 330.000 dollari quello che costa è la rendita non valore dell'immobile e lo spread ovviamente fai l'acquisto quindi questo è un esempio nella pratica del perché rispondo a tua domanda io non consiglio mutui quindi consiglio cash ovviamente è più difficile più lunga però anche più stabile anche perché ogni immobile ha una banca diversa devi spiegare qualcosa a qualcuno tu devi ricevere una chiamata da qualcuno che ha il diritto di chiederti spiegazioni no detto questo io non sono un nazista modello del debito modello Rams anche se raga ha ragione dei Rams cioè non ce n'è sì poi ci sono i livelli e qui bisognerebbe parlare della differenza tra economia e finanza chi è nell'ambiente finanziario c'è dei soldi finti e fa queste operazioni cartolarizzate a debito lì non hai i clienti non hai la soddisfazione non hai il mi dai 100 perché vale 100 allora io spendo 80 mi rimane 20 lì è tutto un flipping sono prodotti finanziari di prodotti finanziari a leva sono cose diverse finanziarie e lì vabbè è tutto debito in realtà i soldi sono debito ma nell'economia domestica di una persona diciamo tutto sommato normale è inserire la chiave inglese finanziaria in un sistema economico devi starci attento come finanziamenti di circolanti alle aziende dove hai l'azienda che funziona in modo economico e ci metti dentro finanziamento circolante che sono soldi artificiali dove però tu fai i soldi dai clienti non fai finanza quindi hai finanza messa in un posto che se ti salgono i costi del traffico e tu acquisisci i clienti a di più di quello che ti pagano sei in perdita e anche il debito finanziario perché poi tu hai una cosa finanziaria in un ambiente economico comunque poi magari diciamo spieghiamo meglio però in un ambiente economico io tendo a guardare con scetticismo perché io dico compro l'immobile in che fine? non ho finito? non ti viene da pensare ti faccio un esempio che magari per qualcuno che comincia a fare i primi soldi online che magari accumula il primo milione e via dicendo dice ok io adesso ho un milione di euro ho questo affare potrei comprare questa casa a 300.000 euro ho due opzioni togliermi 30% di quello che ho da parte e vabbè li rifaccio magari entro l'anno già ho recuperato questi 300.000 euro oppure prendo comunque la casa la blocco magari prendo un mutuo non lo so al 2% non è il caso adesso ma ad esempio quando l'avevo preso io tempo fa io ho avuto culo perché l'ho preso all'1.7 fisso quindi è praticamente quasi regalato e dice perché mi devo togliere 300.000 euro adesso sul milione quando con quei 300 posso fare qualcos'altro o posso continuare magari ad avere un delta maggiore allora ripeto io non sono un nazista del debito il debito sul real estate è uno dei debiti sicuramente migliori adesso non credo di dover fare la differenza per il nostro pubblico tra debito buono e debito cattivo il debito per andare in vacanza è cattivo il debito per una cosa soprattutto se la metti a reddito che ti produce un'entrata diciamo è debito buono questo è la teoria allora per risponderti un'altra cosa che io non ho visto funzionare ti dico qual è il mio problema con questa cosa matematicamente è ineccepibile appunto perché matematicamente è così tu fai un'azione di brocchieraggio fondamentalmente cioè tu li prendi all'1.3 è come se tu riprestassi i soldi le aziende di noleggio macchine per esempio fanno questo le persone non lo sanno sono in realtà delle finanziarie nascoste dove la macchina e il bene loro fanno tra quando prendono i soldi loro e quanto te l'affittano a te ma ti stanno fondamentalmente prestando soldi a mezzo macchina ti costa di più la macchina quando ho preso la macchina due anni fa l'affitto abbiamo lo sconto ma deve prendere le rate no non prendo le rate perché loro fanno il leasing a lungo termine e ti riprestano a corto termine a te guadagnano sullo spread ok tu fai la stessa cosa prendi quel denaro che è un bene qui siamo proprio nell'ambiente finanziario il denaro cioè come se in modo non emotivo il taglio che mi serve prendo un bene che mi fa rigirare il denaro all'indietro e guadagno lo spread quindi 2% 8% faccio il 6 non avrei il 6 senza quel 2 a leva io non ho visto questa cosa funzionare nella pratica cioè io ci sono delle cose che le sconsiglio perché parlando con 20, 30, 50, 100 che mi dicono la stessa cosa allora primo molti lo dicono e non lo fanno questa è anche un'altra cosa secondo chi lo fa tutta questa anche perché viene venduto in modo è passivo io vedo della grandissima attività delle grandissime dei grandissimi mal di testa durante il periodo del problema che abbiamo avuto che non possiamo nominare se no ci bandano non vedo questa prosperità lungo tempo ripeto nella normalità poi per favore non mettete dei commenti stupidini sotto questo video dicendo ah ma black rock quello è diverso e sai che problemi è farlo capire alle persone no ah ma test quelli sono cose voi non siete teso certo che black rock ma quello compra è diverso non è big luca che è stupido che si compra cioè che comunque è un poveraccio con front capisci sono livelli diversi ma nel qui e ora nella pratica non è una cosa dove io ho visto tutto questo successo ho visto il rischio detto questo una cosa del genere non sono contro ti dico puoi farlo prova però tu mi hai detto ho un milione da parte capite la differenza non ho zero da parte perché uno dice faccio il mutuo alla malparata chiudo il mutuo allora mi va bene sei fottuto per casa tua tu dici non esco di liquidità ecco una cosa a cui stare attenti è questo discorso di vado a debito così i soldi che non spendo li uso per qualcos'altro che mi ripaga io non ho notato e questo è un consiglio che do innanzitutto investendo cifre interessanti io e avendo provato i portafogli gestiti il private banking in Svizzera e avendo senza volermi erigere quello che non qualcosina ho visto perché ci sono purtroppo tantissime persone ma non su youtube in generale che ti parlano di investimenti che ti parlano di immobili e poi nella pratica in realtà non investe nessuno oppure ci hanno 20 mila euro investiti che è un po' diversa la situazione quello che io non ho visto funzionare che poi è il business del private banking che si basa al 90% sullo spennare imprenditori che hanno soldi che non sanno come si investe perché gli imprenditori sono pessimi negli investimenti perché il fatto che tu sappia vendere tanti corsi e fare milioni non vuol dire che tu capisca niente di investimenti perciò ti rimbombano di questi termini e il loro lavoro va bene alcuni sono bravi a volte ne vale la pena non sto assolutamente demonizzando però il far rendere fino all'ultimo euro il dire allora questo prodotto lo facciamo per tre mesi così mi da il 2% poi smobilizziamo questo lo metti no non l'ho vista far rendere fino all'ultima cosa infatti il mio consiglio è di non farlo cioè siate cauti con gli investimenti accettare magari di meno ma cioè io per esempio tengo delle cifre liquide che non hanno un senso ma invece ce l'hanno perché primo mi fanno dormire bene secondo un private banker non vede l'affare che io ho fatto immobiliare quelli sono fatti meno non solo ma l'investimento e la gestione sta all'interno della finanza personale cioè un banker capace di farti investire lui sa come investire quei soldi ma il cappello più grande non lo vede la situazione non sa che cosa tu provi di notte perché sei imprenditore puoi avere dei problemi di assenza di vendite di cali delle vendite non sa se tu dormi o no con i soldi non sa quale grado di rischiosità non sa quali sono i tuoi progetti e se ne parli a lui lui non è la persona giusta per questo perché fa gli investimenti con quel porto quindi lui capisce quello che va benissimo cioè non è una quando hai un capitale l'unico modo per cui farlo quindi io ho 5 milioni un milione lo metto in un banker che mi compra i bot quello lo deve fare un banker o un gestore patrimoniale esterno con il mandato per non avere conflitti di interessi perché lì devi invece correre dietro ma sempre con senno ai prodotti cioè mentre tu per l'accumulo puoi comprare indici cioè noiosissimo adesso 50 mila dollari in indice al mese non è una cosa di cui noi possiamo parlare a un cocktail party l'hai fatto il mese scorso bonificio 50k arrivati clic come va e niente va come il mercato guardati quanto fa cioè non è che sia molto eccita però quando invece tu cerchi yield lì è quale prodotto c'è questo mese i prodotti yield sono scesi stanno salendo i bond che salirebbero quindi il valore sale in realtà lo spread tra quello che rende scende però quindi i soldi si riverseranno nella borsa ci sono i certificati e ci sono alcuni prodotti lì ci devi stare dietro ok ti sto interrompendo pochissimi secondi solamente per chiederti se ti sta piacendo questo episodio fammelo sapere all'interno dei commenti soprattutto metti like clicca il tasto condividi e condividi questo episodio con più persone possibili solo così saremo in grado di capire se effettivamente ti piace quello che stiamo mettendoli fuori online gratuitamente per tutti adesso torniamo al nostro episodio ma con il portafoglio a rendita non con tutto assolutamente il patrimonio il dire mi privo della liquidità così non la tengo ferma così guadagni il 2% poi con questo 2% lo rimetto di qui che il bond mi ha reso no non è una cosa che io vedo funziona mai funziona in teoria in teoria questo rende poi nel frattempo mentre matura quel prodotto togliamo questo prodotto e facciamo no anche perché i vari gestori sono molto quelli bravi sono molto cauti nel turnover del portafoglio cioè lo tengo abbastanza stabile chi vuole strumenti a rendita assolutamente c'è una gestione attiva cioè sono io il primo che dico delegatela quando la delegate esigete le performance di portafoglio degli ultimi dieci anni non parole tanto siamo in un ambiente di numeri perché parliamo fammi vedere ok e dice ok tu ogni x è tuo lavoro a darmi il 5% netto all'anno che mi si stacca in conto quindi non mi interessa che vada su di molto il portafoglio io voglio le cedole quella è una fase già di quando avete un po' certo di patrimonio ok e quello va bene poi non so per esempio dovevi avere gli indici di immobiliare e poi tanto cash eh ma i 500.000 extra che hai qui perché non li metti di là così almeno nel frattempo la scadenza è a tre mesi perché mi fanno dormire perché stiamo correndo dietro a troppe cose stiamo calmi per favore cioè ci vuole anche la stabilità e il va bene ma c'è l'inflazione cioè accettate anche le vostre non cercate di far rendere ogni euro no gli tf sono bassi ma siccome le cripto pump hanno riverso gli tf nelle cripto è quella la contaminazione che non mi piace non so se mi sto spiegando quindi bisogna stare attenti quindi per tornare alla tua domanda io poi sono un po' prolisso e chiaramente verremo accusati Big Luke ha parlato del nulla no perché poi questo è sempre poi potrebbe sempre essere che magari sono queste persone che non capiscono però magari poi siamo noi stupidi parliamo italiano sì 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 esatto e quindi dire quei 300.000 io me li tengo per fare altro sono molto preoccupato su che cosa è questo altro certo ti dì va bene cautela e soprattutto imparate a conoscervi cioè a voi per esempio dire mi spaventa il debito è una ragione assolutamente ineccepibile per non andare in debito dire io non dormo se non ho un milione di euro liquidi non investire checking account cioè io ho dei neanche savings checking ecco a proposito del checking account tu stesso sei partito da zero siamo partiti da barbonacci tutte e due e quindi ovviamente adesso parliamo e abbiamo in testa cifre che sono completamente differenti io ero a zero esattamente siamo nel 2023 nove anni fa nove anni fa penso tu siamo più o meno lì cioè ero a zero anche prima in realtà ero a zero anche prima diciamo quando le cose si sono iniziate a spostare a muovere diciamo quando la è quasi dieci sei vecchietto sei un nonno lui è il nonno della formazione qualche capello bianco in realtà mi sta non so te sta venendo qualche capello bianco ce li ho anche dove non dovrei averli e ci fermiamo è brutta è brutta 36 sono quasi 37 io 32 volevo far notare dare formazioni a te viene mai in mente è una paura che io nel senso tutti ci vedono sempre a cazzo sono forti di qua di là sono super autostima palla che è verissimo perché sennò probabilmente non avremmo fatto quello che abbiamo fatto ma tu hai dentro la tua testa sempre quello spazio di merda che ti riporta ogni tanto con la testa a quei periodi là allora ci abbiamo tutti diciamo che io ho perso barra sono stato mi sono curato dalla paura di perdere soldi dalla malattia del denaro quindi adesso sono molto più tranquillo rispetto a prima ma non ci arrivate con nessuna cifra questo lo dico chiaro ragazzi non sarà un milione non saranno 5 milioni non so ve lo possiamo assicurare non c'è cifra in banca non solo discussione di ieri che ho fatto la cena con questo mio amico che sta iniziando ad andare bene e adesso lui non ha ancora un milione lui non sa cosa succede al milione e cioè adesso tu hai questa paura e questa fretta e dai non so 500 mila euro così al milione per tre povero ma io ho fatto consulenza di urgenza pagate il doppio con guarda che questo studente ha un problema non capiamo che cosa ha detto che è un problema grandissimo ti deve incontrare deve venire questo è successo è un problema è un problema io sono qui perché non è un problema quindi adesso te lo devo ti dice oh cos'è successo e ho via un milione e due cioè io sono povero big no ma qua dobbiamo fare qualcosa e adesso io so che questa cosa purtroppo viene percepita male cioè io adesso ho detto questa cosa e lui insomma la conferma perché abbiamo esperienza in questo senso voi dovete capire che noi vi stiamo dicendo quelle cose che molti non vi dicono primo perché non le sanno e perché sono sgradevoli da dire e perché anche avvengono a porte chiuse ma questa è la realtà no anche perché un milione e uno io mi sentivo molto più ricco quando avevo non so 7-800 mila rispetto a quando ho crossato il milione quando ho crossato posto il fatto che dopo anche 100-200 mila erano il mio periodo d'oro il mio periodo d'oro è quando avevo 200k in banca e facevo 30k al mese spendevo poco ero serafico lo stress non sapevo neanche dove stesse di casa anche perché per fare certe cifre per mantenerle ok e poi soprattutto per non è solo farle ma poi è dove le metto quando cominci a ragionare col patrimonio non solo con l'ingresso monetario questo è un problema e quindi l'ansia lo sfrizzichino sale cioè quindi è un'unità da un milione e uno quindi se hai 6-700 erano 6 mentalmente quindi questo discorso l'ho fatto è un pattern comune ripeto come l'hai superato allora innanzitutto penso che l'accumulare di più soprattutto se accumuli patrimonio un po' ti calmi ok quindi c'è anche una cifra dove tu hai un minimo di ansia che è anche giustificata e quello che fa la differenza è il tenore di vita perché l'ansia è la terna pitagorica tra il tenore di vita e quello che ti manca dalla rendita che copre il tenore di vita infatti se posso dare un consiglio siate molto cauti nell'alzare il tenore di vita oltre i 120-150 perché arrivate subito a 300 che è un'altra cosa del tenore di vita nessuno spende 212 ne spendi io 150 o 300 è vero mi dice ma perché dicono oh provate cioè che cosa vi devo dire queste sono le cose che ho visto io che hai visto tu evidentemente anche lì sarà vero perché insomma non le avrò viste solo io quindi ci sono dei pattern e poi diciamo uno deve trovare delle varie soluzioni non posso la mia non è per forza magari è anche replicabile comunque devi trovare anche dei perché più grandi nella tua vita eccetera a proposito del momento odierno nel senso momento odierno se neanche se è buono da dire ma insomma Big Luca a un certo punto ha chiuso la Big Luca International racconto brevemente come è avvenuta la cosa io sono venuto a scoprire da te prima ancora insomma che tutto ovviamente diventasse pubblico mi arriva questo messaggio da parte tua io ero in vacanza Mic ascolta chiamata urgente perché c'è un segreto militare che ti devo che ti devo svelare quindi tieniti libero assolutamente cazzo big sono in vacanza due settimane la gente pensa che noi viviamo in vacanza ma gli unici 15 giorni ho detto cazzo stacco il cielo ho detto guarda lo stacco perché perché cazzo sei tu ci siamo sentiti ha detto guarda la Big Luca International chiude e si lancerà scuola per ricchi mi avevate fatto vedere insomma tutto quanto poi sono stato felice insomma di aiutarvi anche per il lancio come affiliato insieme anche a qualche altro collega ed è stato sostanzialmente un po' il non so se chiamare l'uscita di scena tra virgolette una piccola exit una grande exit insomma ma adesso la gente ti vede un po' meno sui social no e sicuramente manchi esatto sicuramente manchi ma io ho persone che mi dicono ma Big secondo te inizierà guarda io non lo so però sicuramente non si è rotto le palle di continuare ad aiutare i clienti di continuare a fare soldi di continuare a divertirsi perché alla fine è vero è pesante quello che facciamo tanti vogliono arrivare al livello dove siamo noi ma poi quando arrivi al livello dove siamo noi non è divertente è quello forse era meglio se mi fermavo a 100k mese e basta assoluto cos'è che ha portato a tutta questa scelta c'è qualcosa che rinneghi qualcosa che invece di cui sei super fiero super felice allora tu fai conto che è una domanda complessa poi così mi dai anche l'assist per spiegare bene Big Luke a scuola per rischi eccetera allora io ho accumulato molto stress ma fai conto che io sono partito per gioco nel 2018 io venivo dal mercato americano eccetera io non so se abbia neanche mai condiviso con te gli screenshot che io avevo dopo lo possiamo fare di come era la situazione nel 2018 no quantomeno qual era la mia è difficilmente trasmissibile no cioè io avevo io ho la foto eccetera ma l'avevo anche postata su facebook non so i lead 7 centesimi oggi ti do ti dico ho i lead 7 centesimi però tira le testate al muro per due tu tiri le testate al muro per due era un ambiente molto molto acerbo no c'era poco e c'era molto mercato c'era molta fame di sapere eccetera ed io avevo i corsi in inglese e per un anno mi dicevano ma big fai corsi in italiano guarda che c'è il mercato italiano così io conoscendo un po' la mentalità italiana stando molto bene nel mercato americano dove io ero molto piccolo avevo il mio canale di youtube ok però io praticamente facevo soldi così in america canale di youtube link ai corsi consulenza affiliate mark c'è molto thank you very much in modo molto contenuto guadagniamo molto bene senza fare un Kaiser infatti per questa roba mi ricordo un aneddoto non so se te l'avevo raccontato eravamo al non mi ricordo se era wake up call o era ancora reach now di Alfio si no nel 2017 e io mi ricordo noi eravamo nella stessa identica stanza ma non ci conoscevamo ancora ma io mi ricordo di te perché praticamente se ti ricordi che insomma chi è stato al wake up call nel 2016 a Parma era il 2016 forse esatto che Alfio ovviamente quando chiede un po' di testimonianze cosa o che che ti riprende io ricordo aveva ripreso me io quell'anno avevo fatto il primo milione di euro con l'infobusiness e dopo un po' altre testimonianze o che parla anche di te diceva lui è un ragazzo con cui ho fatto solo delle consulenze private sui soldi sul mindset e via dicendo e lui stava facendo 30k mese erano 30k 40k mese online in inglese e io mi ricordo che ero andato a vedere e mi ricordo insomma di sta roba qua che avevi solo un canale infatti ma cazzo ma non hai fan piccolino sì sì no 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 che strano io ho beccato nella nicchia dei libretti del corso dei libretti dei libretti di quel filone là che era un filone non mainstream ma avendo un canale che parlava di quello avendo i risultati le persone hanno cominciato a prendere corsi io vendevo così sì poi avevo un attimo fatto di però ero partito in modo molto piccolo con l'affiliate marketing le consulenze poi ho iniziato a fare un po' di strategia un po' allargato ho preso dei clienti però era molto contenuto ma era tutto netto quindi se erano 36.000 in un mese erano mille di costo ma neanche cioè quanto costa la Weber con qualche migliaia non c'era assistenti venditori tutto netto così e nel frattempo studia molto marketing seguivo già delle persone avendo studiato con Dan Kennedy da Dan Kennedy più che altro poi lo incontrai dopo di persona e ho preso dei clienti cominciavo già a occuparmi un po' di strategia e poi tutte queste cose che dici spiegale anche in italiano io dicevo ascolta io in italiano non ho veramente voglia a un certo punto ho detto vabbè adesso faccio due video per vedere una risposta scusami se ti interrompo cioè perché sei inglese madrelingua perché hai studiato all'estero tutto il resto tuttavia sei italiano probabilmente la scelta più semplice che avrebbe fatto chiunque con la tua proprietà di linguaggio probabilmente è ok io studio quello che vedo qua e cazzo e lo porto all'interno ovviamente di una platea di gente che non sa neanche dire hello thank you e perché invece sei andato direttamente sul mercato americano prima? e perché per me la vita era in inglese ti veniva quello capito no ma non solo adesso io non voglio io non conoscevo io te lo posso giurare io ho conosciuto questo lo rivelo perché non penso ci sia nulla di male io ero solo nel mercato americano quindi l'Italia io non la conoscevo sono tornato in Italia ero in palestra e comincio a parlare con questo ragazzo dove a un certo punto mi fa io ho studiato a Exeter appena ho sentito Exeter you speak English of course you speak English parla anche cinese si è rivelato essere il figlio di Carlos Bastos ok so se posso fare Nuno anzi saluto Nuno saluto Carlos e salutiamo tutti come sempre e allora lui mi dice a un certo punto mio papà ma hai presente la società di network e lui è il numero uno ma cavoli è grande per quello che hai studiato a lei ho cominciato a dire famiglia di ricchi e allora gli spieghiamo quello che facevo e fa sai che no che in Italia c'è il Kiyosaki si chiama Alfio Bardolla gli ho detto di Tulini ancora non lo conoscevi no te lo giuro e quindi deve essere stato 2016 quei mesi lì probabilmente era perché poi il WK era 16 o 17 allora il 2016 mi sa che era Rich Now ancora no allora era 17 quindi nel 2016 mi comincio Alfio Bardolla ma quindi la formazione esiste anche io non lo sapevo te lo posso giurare io ero solo in inglese perché ho guardato The Seeker ho trovato pronto ho trovato chiusanti e siccome la mia vita era sempre in inglese parlare italiano non mi veniva attraverso cioè se dovevo fare una cosa facevo in inglese perché la mia vita era in inglese quindi ho iniziato così poi ho scoperto anche la formazione in Italia solo che e non solo ma ero andato questo lo voglio anche dire ho trovato video di Alfio e l'avevo apprezzato perché c'è chi dice la coppia di Kiyosaki io non sono d'accordo con questa cosa Alfio secondo me o no cioè non è la coppia ci sono altre coppie e non c'è niente di male ad essere la coppia perché se tu porti informazioni di valore che tu riplichi funzionano e che funzionano tanto onore però con sta maglietta arancione e poi tra amicizie comuni Alfio è andato però ancora sinceramente io sto in America così e poi tra dai ma guarda perché io non pensavo ci fosse business ok quindi inizio per gioco per farla corta vado da febbraio da febbraio da Cardone 2018 poi torno a Dubai che era quel fine febbraio inizio se ti ricordi e comincio senti facciamogli dei video e quei video sono io sono bigluco sto uscendo dal mio hotel perché io vivevo in hotel cioè non era fatto apposta anche lì spieghiamo io vivevo in hotel ed ero a Dubai da pre-mercato italiano no faccio questi due video con la camerina mi ricordo il selfie stick e io cammino cioè a far cazzone al mall cioè proprio cosa improbabile senza il microfono i video esplodono completamente ma quello ragazzi quei video lì 10 dollari al giorno a video non sbagliamoci ne faccio altri faccio due live io mi sono ritrovato io mi ricordo ancora 2000 e qualcosa iscritti alla pagina e live da 320 360 persone dove io ero in piscina al soffit e il palma assurdo con 2000 cioè adesso neanche se hai un milione di fodas e quando ancora facebook era facebook salutiamo meta facebook e quindi mi cominciano a seguire entrano fino a che e vabbè gli facciamo un corso film online marketing per mentecati glorioso online marketing per mentecati 1.0 senza una sales page adesso non replicate questa cosa qua senza una sales page a 1000 euro che era un prezzo abbastanza strano molto più alto dei percorsi che erano prettamente fisici non so se vi ricco per chi c'era corso non rimborsabile in nessuna circostanza no la cosa bella è che ai tempi scetticismo zero quindi tu compravvi da big luca che era in piscina a dubai che ai tempi era veramente strano adesso è sdoganata non c'erano le rate non c'erano le rate ma poi dubai ma cos'è dubai guardate che adesso è sdoganata la cosa ma corso non rimborsabile in nessuna circostanza io non avevo il funnel quindi l'ho annunciato la io avevo dato il link e forse nel frattempo avevo collezionato quella ah sganciami l'email non so se vedi è chiaro che fosse uno scherzo e faccio in una settimana 80k e nel frattempo mi chiedevano consulenza poi ho fatto un altro corso e quindi è nato come un gioco e però poi si è trasformato a un certo punto ho detto beh c'è molto business e soprattutto c'è mercato e le persone hanno questa questa fame di conoscenza no e e quindi è nato come un gioco così quindi tu mi hai fatto un'altra domanda adesso ci siamo persi però è bello arrivare alla storia senza dire raccontami la tua storia però mi ricordo perché io a quei tempi ero era febbraio marzo era il periodo febbraio marzo 2018 ed eravamo a funnel hugging live con da Russell Branson che avevo ritirato il premio di click funnel e c'era pure insomma amici in comune Silvia Fabio e via dicendo e lì è stato poi dove ho sentito parlare di te per la prima volta cioè in realtà ti avevo visto al wake up o reach now adesso non mi ricordo era già wake up esatto e e quando poi siamo usciti io mi ricordo stavamo uscendo stavamo andando a cena stavamo aspettando non so non mi ricordo se c'era già uber penso probabilmente di sì e o Fabio o Silvia mi dico ma sai che c'è Big Luca che cazzo sta vendendo un casino non ha sales page ho detto chi è Big Luca no ha detto chi cazzo è Big Luca questa è la storia vera esatto ho detto raccontiamo le cose trasparenti ho detto chi cazzo è Big Luca sono andato a vedere ho detto cazzo ma era quel ragazzo che avevo visto quindi si è lanciato sono andato a vedere e ho visto noi all'epoca stavamo facendo intorno sì 100k mese più o meno ok avevamo accademia del network sì 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 cioè in realtà forse fin troppe robe stavamo avevamo come prodotti però ad esempio la nostra scala era io partivo da mi pare 387 euro poi salivo a 797 poi salivo a 2000 poi salivo a 5000 e lì mi fermavo però cioè arrivare a milio che era era dura cioè dovevo andarci per grado e funzionava mi ripagavo i costi pubblicitari boh tutto bello sono andato a vedere ho detto chi cazzo è sto Big Luca andiamo a vedere e dico cazzo ma io l'avevo conosciuto l'avevo conosciuto l'avevo visto era quel ragazzo là e sono andato a vedere ho detto cazzo ma non c'è il funnel non c'è la sales vende a 1000 euro e dei loro amici mi stanno dicendo che sta veramente facendo questo quindi non è una cazzata no no certo e ho detto ma porca troia ma io a 1000 euro lo vendo come back end porca puttana questo sta vendendo a 1000 euro secco senza la sales e lì è stato comunque anche game changer è sempre bello anche nello sport io ho sempre avuto sta roba quando c'è magari in quel momento cazzo sei tu stai vincendo e poi cazzo vieni a sentire che dall'altra parte del mondo c'è una ragazzina ma allora si può fare sta roba e quindi poi alla fine vai a crescere e tutta l'industria cresce e quindi mi ricordo che era così quella è stata la più grande diciamo novità introduzione e cambio di paradigma e cioè vendere le informazioni anche poi a livello consulenziale a livello di parcella 1000 euro all'ora adesso è una cosa normale per un professionista almeno 500 euro all'ora ma i tempi erano impensabili i corsi venduti ai ticket è stata una cosa diciamo folgorante ma io ho potuto far questo se tu ci pensi perché scherzavo perché esatto perché non ho detto costruisco un business quindi ho detto senti ascolto se lo vuoi 1000 euro vaffanculo e lì secondo me è stato geniale anche cioè sicuramente lei è stato tutto calcolato da te il nome cioè non c'ho la sales non c'ho questo non c'ho questo e in più ti chiamo mentecatto no no si calcolato era proprio l'espressione di quello che io pensavo perché quello era erano mentecatti è stato tutto cioè è stato tutto il connubio che ha funzionato diciamo che e questo poi è una lezione diciamo anche per tutti anche è il personaggio che funziona che non è replicabile e c'è chi online ti ho provato a replicare ma non va ma non va non funziona non funziona e c'è chi online tira cioè quando mi chiedo ma se io voglio fare il personaggio online la prima cosa che gli dico è pensaci bene perché ha una rottura secondo ci sono ma è come in radio ci sono delle voci che non sono da radio le voci calde invece e quella te la dà madre natura tra virgolette sì poi la puoi coltivare puoi andare dal corso il vocal coach ma tutto però oppure gli attori che non bucano si dice questo tema televisione bucare la telecamera c'è chi buca la telecamera c'è chi non la buca e se non la buchi non la buchi se non sei cioè io sono alto un metro e settantacinque non posso fare corazziere perché non sono alto un metro in avanti cosa dobbiamo fare e quindi la cosa è stato un connubio di tante variabili anche ascrivibile alla fortuna perché questa cosa non la puoi fare adesso potevi farla prima quindi poi ho iniziato diciamo a strutturare però nel 2018 quello che le persone non sanno è che purtroppo non si riesce a trasmettere è che la facilità quando tu facevi due o tre cose giuste di fare soldi e anche poi i vari studenti che hanno cominciato a fare questo adesso io non voglio fare i nomi e i cognomi perché è sgradevole ma c'è funnel fatti col telefonino plf fatto con l'iphone se tu avevi nel 2018 un'offerta per esempio per i corsi per le consulenze o comunque servizi cose molto online anche perché ai tempi i vari imprenditori che poi abbiamo preso e che adesso abbiamo come clienti fisici mi guardavano ma erano sono arrivati diciamo con più i primi chiaramente sono stati quelli che volevano anche loro fare soldi online con i corsi eccetera tra l'altro poi ricordami di parlare della qualità dei clienti che ho preso nel 2018 perché è importante quindi avevi una mezza offerta lanciavi il funnel ragazzi cioè la regola era tu lanciavi il plf il quarto giorno che era il video di venita tu già vendevi esatto secco di suo raga la gente si è messa via dei milioni e chi non ha cambiato metodo chi magari io non studente tra l'altro mi ha anche fatto una testimonianza andate a vedere le testimonianze magari capite perché e lui frequentava un'altra parrocchia diciamo e lui mi ha detto Big se io avessi cambiato il mio modello di vendere informazioni che in quel momento includeva una membership lo ticket dei libri ma cose anche che possono avere non era la cosa migliore da fare in quel momento io avrei 5 milioni in più in banca e io gli ho detto sì è vero anche perché è in una nicchia molto più enorme della nostra nella nicchia fitness quindi ti puoi bene immaginare e quindi ho cominciato a strutturarmi poi c'è stato il primo evento poi gli altri eventi eccetera però essendo partito per gioco essendo stato subito così visto e guardato e quindi c'è stata la necessità di mantenere poi anche le aspettative quindi è chiaro che da un gioco poi se c'hai clienti ragazzi li devi anche servire e adesso a parte gli schede se comunque Big Luca ha avuto un certo tipo di traiettoria che è tuttora molto ascendente adesso poi parliamo dei nomi della Big Luca di Scuola Peric cioè è perché i clienti sono contenti adesso siccome noi abbiamo sempre i vari haters e le varie cose chi permane chi ha testimonianze ragazzi noi abbiamo abbiamo venduto decine di migliaia di corsi fatto eventi con centinaia di persone a 3.000 euro eccetera cioè quella roba lì è perché c'è molta qualità impegno certo poi ci sarà quello che ha comprato non è contento chi aveva l'aspettativa sbagliata la volta che abbiamo lanciato il corso con l'audio mea culpa mea maxima culpa però anche per chi guarda c'è certi numeri e certe cose ti ingabbiano signore io considero un enorme vanto personale ma lo posso dire anche su di te questa cosa il fatto che dopo anni di vendite di tante vendite di tanti corsi di tanti mastermind di tante cose cioè di persone che hanno preso parlo per me ma penso che la cosa sia molto simile per te che ha effettivamente acquistato la formazione di Big Blue che magari l'abbia anche applicata e disperato e sulla strada e fregato e guardate che quando cominci a vendere 20 30 40 mila corsi e al massimo trovi quello che 4 anni fa 5 anni ha comprato un corso non ha capito adesso ancora lì imbegolato piuttosto che ha pensavo diverso sì quello c'è ci sono lo considero un enorme le testimonianze le cose che adesso le cose che abbiamo che i milioni che abbiamo per esempio abbiamo creato molti milionari proprio per quell'introduzione del fatto di misurare l'azienda in milioni sì ma tu che patrimonio hai ti stai impilando i soldi eccetera il concetto della pila cash millionaire erano tutti i concetti diciamo che che abbiamo introdotto e quindi voglio anche lanciare un messaggio per chi pensa che vendere informazioni e fare il mio cosentino sia facile non è facile anche perché non c'è solo il vendere ma ci deve essere la sostanza e questa cosa è una cosa che noi dobbiamo rimarcare con grande forza soprattutto oggi ci sarebbero tutte è molto brutto vedere il calderone che si crea e soprattutto la reputazione che c'è un dualismo no? cioè la reputazione che tu hai effettivamente con i tuoi clienti e il bene che tu fai le testimonianze eccetera e poi purtroppo la percezione esterna di chi tanto non sarà tuo cliente eccetera proprio perché magari non capisce quello che facciamo eccetera noi veniamo presi per truffatori per e ci sono delle persone che si comportano male vendendo informazioni sì la realtà ragazzi è che durano molto poco perché quando tu vendi mille corsi e fai un milione di euro e nessuno di quei mille risultati non comprano più diciamo vanno avanti che frega raga dopo c'è pardon dai quindi dopo anni dovete avere una sostanza e dei risultati questo è da dire e noi facciamo una cosa che è molto difficile da capire dall'esterno comunque ci stiamo perdendo via quindi io mi sono molto stressato abbiamo corso molto business delle informazioni è un business dove tu ti devi inventare cose ogni giorno i lanci le offerte è un business con moltissima instabilità perché ritrovare un che annuite come lo sapete bene perché purtroppo trovare una stabilità mentre per esempio nel 2018 tu potevi avere il funnel in evergreen il webinar no cioè tu nel 2018 stampavi soldi non era un webinar era una cartiera ho fatto un webinar ma no in teoria è una macchina una print cioè una money printer no i funnel spariscono i prodotti come in ogni mercato essendo un mercato anche piccolo le vendite oscillano le persone vogliono sempre corso nuovo pensano che un corso diventi obsoleto e tu non gli fai capire che invece non è così mi devi lanciare ci deve essere l'offerta ci deve essere l'idea e quindi devi veramente non hai una stabilità di marketing non per niente io ritengo che nella scuola di formazione l'infomarketing eccetera ci siano i veri esperti di marketing io lo penso fortemente perché non è mai nulla uguale no è così io ho clienti pro giorno una consulenza che ho fatto questo è un imprenditore nel campo fisico che ha un importante patrimonio personale che sta andando molto bene eccetera lui ha un funnel dal 2018 e quindi il suo marketing non è che cambia cioè noi invece ogni giorno devi dire il lancio il bundle qua hai promesso questo allora stornalo e fagli il downsell così però perché deve entrare continuamente questa è una cosa che ho spiegato al webinar di ritiro al live di ritiro che dopo un po' diventa anche un obbligo perché tu cominci all'inizio è facile poi ti espandi un attimo cominci a tirar su persone fai un team ma quel team devi anche dare da mangiare hai anche dei costi all'inizio infatti il perimetro è un milione all'anno 90% di profitto e stai benissimo perché questi numeri sono possibili quando cominci ad andare sui 2 milioni 3 milioni eccetera ci sono anche delle esigenze aziendali non puoi vegetare anche perché dall'altro canto hai persone io adesso è già due volte che sto facendo delle consulenze dei miei storici big il mastermind big il mastermind te lo chiedono e voglio dire il coglionazzo il fuffaro il ragazzino che avevo nel mio soggiorno tra l'altro non lo sapevo mi sono presentato in ciabatte perché mia assistente ha combinato un casino a 9 milioni di patrimonio personale quindi non stiamo parlando di idioti ok non di scemettini consulenza dell'altro giorno azienda che adesso ha 3 milioni non nella formazione 3 milioni e mezzo 4 con uno di utile e la traiettoria che ne fanno 10 il prossimo anno big dov'è il mastermind quindi dopo un po' cazzo allora facciamolo quindi hai cose chiaramente che spiego a voi lui insomma potrebbe spiegarle lui a me conosci dall'interno la realtà e quindi lo stress c'è essere un personaggio pubblico soprattutto io che che ho avuto una io ho un livello di viralità e di morbosità pazzesco anche perché si crea un altro fenomeno cioè tu sai chi è il VIP del grande fratello del conduttore sul mediaset o quello che è se tu segui quel canale tipo io non guardo la tele da 10 anni io posso essere di fianco al rapper famoso al conduttore a meno che non siano quei nomi non so Bonollis che allora lo conosce ma non lo conosco perché non lo seguo mentre invece avendo fatto noi tanti ads noi non abbiamo tanti followers ma siamo andati a mettere la mia faccia di fronte tantissime persone quindi tu volente o nolente vedi Big Luca noi c'erano periodi dove raggiungevamo milioni di persone alla settimana come impression cioè tanto facevi ads YouTube YouTube Facebook ma quella entravi dentro il video nell'instream quindi volente o nolente tu comunque hai una riconoscibilità e la cosa è nel frattempo si è modificato il panorama e è una cosa che secondo me dovremmo ammettere questa relazione che noi abbiamo viene fuori anche a livello aziendale con diciamo gli odiatori gli haters e a me non piace neanche metterli tutti in questa categoria perché è molto facile diciamo sono haters no non so dipende stiamo a vedere però il livello di odio talvolta di cattiveri di attenzione negativa è un problema ed è un problema perché tu non capisci il perché io ho persone che mi amano persone che mi odiano ma alcune persone che mi odiano ci sono un sacco di YouTuber di persone dopo poco forum dedicati blog questo big luca e ti viene da dire ma tu perché ce l'hai cosa che ho fatto esatto cioè su un pezzo di carta fattualmente però con le prove io penso che tu sei un fufare non vuol dire niente cioè mi porti per le pezze d'appoggio ne discutiamo e qui tu dici ma cioè tu stai dando valore poi non sei perfetto non siamo santi non è quello il messaggio ragazzi però tu dici e si parte con le migliori intenzioni do valore il testimonial e questo mi dice che è passato da 1.5 a 20 milioni i milionari l'industria le testimonianze le cose le persone mastermind tutti contenti e tu dici ma dov'è esattamente il problema cioè cos'è che abbiamo fatto questo a livello aziendale a volte diventa anche un problema perché ne abbiamo parlato nonostante noi abbiamo più o meno il divieto di parlare di persone terze perché sennò ci defocalizziamo però il discorso a volte viene fuori ma cosa vuole questo piuttosto cosa vuole questo questi qui battute ma cosa abbiamo fatto esattamente e noi sappiamo il bene che facciamo i risultati che abbiamo e non solo molti non li possiamo postare questo è un altro enorme problema ora noi abbiamo la fortuna la bravura comunque di essere riusciti ad accumulare tante testimonianze io ne ho molte dove parlano di soldi anche di personaggi conosciuti quindi comunque dei rifa o dei raffa ma molti non li posso postare quindi fai tanto bene insegni sei bravo e le persone ti adorano con tutti i tuoi limiti con tu il cliente che è stato scontento a cui gli hai mandato ma certo che c'è questo però si attaccano a quelli si attaccano a quelli e quindi è interessante però è stressante anche perché la cosa brutta è la è vile è codardo cioè è diffamazione cioè big look a faccia su di me ragazzi dicono delle cose ovviamente dicono chi non mi conosce cioè guarda caso i veri clienti se no avremo centinaia e migliaia di canali youtube creati dai clienti che dimostrano di essere clienti di aver applicato è che non funziona solo che quello non si può dire no perché non sarebbe vero e quindi ma che dov'è il problema questa cosa la patisci patisci il fatto di avere occhi addosso soprattutto con la mia mentalità paranoica ma non piace che la gente sappia dove sono mi è stato detto poi magari non è vero sono però che quando io mi sono recato a panama c'erano interi gruppi telegram facebook dedicati al perché big look a panama ora da un certo punto cioè ragazzi ora da un certo punto di vista è patetico e devi però in realtà evidenza una psicologia secondo me cioè fino a che punto e dentro quale quale confine e oltre quale confine si parla di malattia e di perversione perché c'è un conto è cosa fa big luca dai che lo guardo su instagram l'altro restiamo a spiare big luca sappiamo che è a panama sì quindi non riesco almeno e quindi è strano e la cosa it takes a toll on you cioè ti comincia a stare sulle balle è stressante beh ne abbiamo parlato tante volte tra di noi i nostri audio i nostri audio infiniti e e non solo ma io ho avuto modo anche di cose di cui non ho mai parlato ma io ho la prova diciamo anche ufficiale non voglio dire di più che il nostro business non è compreso ti faccio un esempio cioè io ho fatto sentire anche al mastermind queste cose cioè c'era un video di youtube mi ricordo di questa persona che riprendeva una testimonianza che mi aveva fatto un vero ragazzino minorenne che aveva detto grazie a big luca guadagno x eccetera e allora un altro youtuber aveva ripreso questa cosa e ho l'ordine di non farmi pervenire niente ma quale era troppo bella e troppo fanciullesca per non guardarla dove questo youtuber dà contro allo youtuber che mi ha fatto la testimonianza quindi apre il video non so se hai visto mettiamo che tu mi faccia una testimonianza io sono youtuber e dico vediamo che cosa ha detto mink ma vedere questa testimonianza dove lui parla di me di qua di là poi fa vabbè andiamo a vedere chi è big luca e non è che lui parlasse male di me apre la mia pagina di descrizione su youtube dove c'è about e quindi e legge la mia descrizione con parole che non ci sono esperto di investimento cioè salta la parola marketing e ci mette lui una parola ma facendo vedere la biografia allora tu dici bocce ferme io penso di essere una persona logica e razionale e non mi faccio prendere dalle emozioni ma tu perché faresti una cosa del genere o tu dici mi vuole diffamare ma che poi non era neanche una diffamazione ma allora copri la pagina che dice una cosa che tu non stai dicendo cioè mi infamico ah big luca tanto la gente non va a vedere la gente non vedrà mai e lui no lui ha letto ad alta voce delle parole che non ci sono quindi io mi chiedo forse ha visto queste parole da un certo punto di vista i brividi ragazzi non sono giochi oppure una delle cose che mi è capitato ma anche recentemente le persone mi dicono c'è chi dice che tu vendi investimenti investimenti ma io voglio lo dico questo faccio anche il nome quando sono andato al cerbero saluto le persone del cerbero quando l'ho guardata quella del cerbero ti ho scritto subito ho detto io non conoscevo il canale sì no ma l'hai gestita da dio sì ma vedi anche lì e vabbè comunque dopo che abbiamo fatto questa questa intervista al massimo tagliamo no ma non taglio ma figurati però poi voglio commentare in realtà eravamo Big Luke a scuola per ricchi ne parleremo tra tre ore tra l'altro se hai una barretta perché io tra poco ti colo degli zuccheri allora e dopo è stata una live è ancora una delle più viste in realtà no c'è stato un casino perché quello del cerbero sì era Big Luke e quindi è un casino perché arriva Big Luke io boh ma che poi era stata organizzata per adesso ti dico adesso ti dico e e dopo hanno fatto delle video reaction che io essendo umano quelle sono andate a vederle io personalmente io per il resto non guardo ma quelle sono andate dove appunto i partecipanti si dichiaravano insomma sconfitti in modo totale no e c'erano le varie persone che sono comparse dicendo che loro hanno rosicato che loro si erano preparati si scusavano con il pubblico per non aver distrutto Big Luke e queste cose ma hai visto noi video eccetera e poi c'era un personaggio del cerbero che però non era presente durante la mia intervista che ha detto ma sì poi alla fine vabbè cosa ne sappiamo se questi investimenti che lui propone funzionano ma io avrei voluto chiamarlo scusami ma io ti voglio ma di quale investimento hai capito cosa faccio però io questa cosa questa cosa la dico la voglio dire io ho ascoltato perché poi adesso con il ritiro di Big Luke sono un po' venuti fuori no è certo recentemente Mercadini sai chi è Mercadini youtuber no youtuber lui fa filosofia è molto bravo e lui ha fatto dei video contro Biglino sai quello che dice che la Bibbia contiene gli alieni che non li contiene ovviamente ma e lui ha potuto fare questi video molto interessanti perché lui sa l'ebraico quindi parliamo di una persona che ha imparato l'ebraico per leggere l'antico testamento che in qualunque visione voi vi troviate che siate praticanti non praticanti è un testo molto complesso e ricco questo penso che nessuno possa e quindi tu e si esprime con una proprietà di linguaggio uno che fa le performance sul palco io ho guardato delle sue interviste è una persona secondo me molto intelligente eccetera e quindi tu non puoi dire questo è scemo e lui di recente ha rivelato e mi ha fatto anche molto piacere che lui è esploso su youtube e ha cominciato diciamo ad avere traction anche non grazie a me però guardando un mio video perché io a un certo punto ho visto questo big luca che faceva i video poi lui parla con l'accento romagnolo è una cosa da sentire e non faceva i video statici lui camminava mentre faceva i video perché lui è milionario e quindi fa quello che vuole e allora cazzo anch'io faccio e poi però dice questo big luca che non ho ben capito cosa faccia allora ho fatto come big luca e poi va avanti a parlare però io mi dico ma come non capisci quello che faccio ma in che senso sì è vero cioè e non è che lui è un assolutamente anzi lo saluto guardo i tuoi video sei molto bravo massimo rispetto è fluente in ebraico quindi però dice ma ma come non hai scusa vai sul sì in che senso io non riesco a capire sì 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 non so se e quindi vivi questo e capisci di non essere compreso fino in fondo e che il tuo messaggio in realtà non arriva poi però ti devi ricordare che non è un messaggio broad c'è il nostro messaggio la formazione ma l'imparare non è da tutti il marketing e i soldi e uno dovrebbe stare a vedere tutti i video tutti i funnel che facciamo perché il messaggio per capire è diviso è come certo un telefilm ma ti devi ricordare che le persone non lo guardano tutto e quindi l'esposizione pubblica e tutti questi cazzi e mica cazzi a volte clienti difficili e facevo l'evento hanno provato a fermarmelo dan kennedy stava morendo prima dell'evento insomma sono anche cioè accumuli stress l'espansione molto veloce ho accumulato stress e per il modello di business e per il personaggio pubblico nel frattempo la vita va avanti quindi hai anche la tua vita da gestire gli investimenti le cose quindi questa è stata una componente che ha cominciato a pesare e poi inizia a pesare quando fai formazione il fatto di dover deliverare cosa da cui mi ero già staccato un po' perché la big look io l'ho delegata molto bene ma la puoi delegare al massimo fino a che il tuo personaggio comunque ancora fa una certa quantità di delivery del prodotto no cosa dalla quale a un certo punto ti devi al 90% staccare quindi e non solo ma per arrivare poi a scuola per ricchi quello che tu prima potevi dare con i corsi i corsi sono un ottimo modo di vendere ancora adesso da un punto di vista di strategia in realtà fare il lancio dove tu vai a targetizzare fai alzare la mano alle persone gruppi in realtà è meglio perché gli vendi la cosa specifica al gruppo specifico da un punto di vista di formazione a un certo punto noi ci siamo fatti un esame di coscienza abbiamo detto dobbiamo offrire di più e dobbiamo fare proprio una scuola cioè non più i corsi frastagliati ma un ambiente dove uno entra ha già tutte le aree tutto quello che gli serve con una piattaforma proprietaria automatica che vada molto bene con i punti eccetera la piattaforma ti dice cosa studiare hai già i corsi inclusi che sono i corsi di Big Luca e hai tutor e consulenti che ti fanno continua consulenza c'è una parte è un percorso vero dove tu non devi più dire ma compro corso di quello corso di quel ma devi comprare questo corso entra in scuola per ricchi e c'è il percorso già fatto ti prendiamo in un vero ambiente dove ti si prende per mano infatti non costa due euro perché chiaramente lì ci sono dei professionisti che in modo organico è finalmente un ambiente centralizzato dove non devi impazzire dietro la informazione ora per tornare alla Big Luca questo andrebbe spiegato la Big Luca cos'è la Big Luca ok è la ragione sociale è il brand cioè tu sai perfettamente che sono quindi la Big Luca non è che ha anche perché cos'è la Big Luca è un'entita in realtà è un brand quello che ha chiuso è il modello di business della formazione della Big Luca chiaramente queste sono cose che spieghiamo adesso nel webinar non si possono spiegare queste cose sono molto complesse quindi la parte formativa della Big Luca adesso si chiama scuola per ricchi ok la Big Luca ha anche un'altra componente in inglese per esempio quindi il brand c'è ancora anche perché non chiudi un brand certo cioè il logo è registrato a me come persona ma il logo Big Luca International non è la Big Luca ok quindi la Big Luca in qualche modo se tu ci pensi nella mente delle persone la formazione alla Big Luca a maniera ed è solo che è giusto che adesso questa formazione venga portata avanti dagli esperti della Big Luca anche perché c'è anche un'altra cosa io mi occupo di strategie e faccio consulenze e mastermind a milionari e multimilionari o persone molto vicino a quel livello però ci sono anche persone che vogliono imparare ragazzi che erano quelle persone del 2018 e io adesso se tu mi dici come si fa un Facebook ad cioè tecnicamente io non so usare Facebook lascia perdere Facebook ad cioè a me mi devono aprire quando c'è streaming clicca qui sembra un deficiente però chi ha un livello basso ma nel sex time tutti noi eravamo e ha bisogno di persone che lo seguano e che sono operative tutti i giorni e che non ti dicano dipende perché la mia risposta alla strategia dipende ci dobbiamo vedere parlare non è che ti posso dire ma meglio usare Facebook ad o Google ad dipende però il principiante ha anche bisogno di essere seguito come un principiante perché i principianti puzzano anche noi eravamo principianti e quindi creando questa scuola e dividendola in livelli dove tu ricevi le informazioni per ogni livello ed hai un tutor che è veramente un consulente e poi le live in comune ma sono tutte nello stesso ambiente ok è un'esperienza formativa sulle cinque aree che noi abbiamo identificato si parla di mindset si parla di marketing uno dei problemi dei corsi è che io mi sono reso conto che effettivamente cioè noi parliamo di imprenditori quindi come si diventa ricchi devi fare l'imprenditore o il libero professionale la ricchezza si compone di variare se tu non hai il mindset giusto il marketing lo percepirai a riaffritta cioè chi non ha il mindset giusto e mi comprava un allora vabbè qual è l'unico corso veramente a zero la mentele ma non so tu non sai niente compri guerra psicologica e ti ritrovi il tuo lavoro è estrarre la massima quantità di profitto da ogni cliente e cazzo pensi che sia una truth ma perché ti manca il resto o il mindset si sente parlare di mindset mindset poi è un termine abusato non si capisce mai che cosa sia c'è uno giusto c'è uno sbagliato la gestione dei soldi e c'è studenti che magari col marketing si mettono a fare soldi ma se tu non sai cosa fare di quei soldi non capisci la differenza guarda che ieri ero a cena questo mio amico e studente ha tutti i miei corsi eccetera lui ieri però non sapeva l'effetto composto sugli etf cioè ci siamo messi lì gli ho detto ok allora tu adesso vuoi mettere 5.000 dollari assumiamo un dato del 12% anno su un periodo di tempo lungo che è la media dell'S&P mi fa paura 40 anni quant'è e sarà come sarà ma tu non avevi comprato il corso sugli investimenti ma tu non avevi non l'aveva visto no non l'aveva non l'aveva andato e lui è uno dei miei fedelissimi è una persona che mi stima molto brava figurati gli altri cioè ci sono delle cose che uno dà per scontato che sembrano ovvie e non sono ovvie e un'altra cosa quando io sento veramente non lo pensate mai quantomeno per le cose che facciamo noi si trova tutto gratis ascoltate ragazzi non è vero perché la realtà è che i non clienti di Big Luca o di Mic Cosentino guadagnano meno dei clienti altrimenti avremmo i non clienti di Big Luca provate a pensarci con la vostra parliamo del business quello più visibile quello delle informazioni gli operatori che voi vedete tutti sono quelli che da Big Luca ci studiano e ci hanno studiato gli altri sono quelli che parlano e puntano il litino ma non guadagnano di più io vedo un problema è tutto gratis trova i contenuti di guerra psicologica gratis vediamo quindi l'esperienza ragazzi si paga il modo di mettere insieme certo che gratis io ti integro a Webber certo ovvio però se tu hai fatto 20 milioni e io no io vengo da te guarda io ho integrato a Webber mi spieghi per favore come mettere insieme a Webber con il resto perché non mi è chiaro se no seguiremo i tutorial gratis esatto di Google faccio AdWords vado sui tutorial di Google non mi sembra andate pure quella è la parte tecnica poi vediamo se qualcuno sa gestire 3000 euro al giorno di AdWords capito e moltiplicarli quindi si è sentito questa necessità e anche quindi ho lasciato andare avanti il mio team oltremodo e quindi la Big Luca come entità c'è ancora perché noi come identità siamo nel senso le persone e la mentalità di Big Luca l'aspetto formativo e quando ho detto la Big Luca ha chiuso è il modo di deliverare le informazioni della Big Luca che adesso è Scuola per Ricchi che non ha solo il nome diverso è proprio diversa completamente c'è un percorso che prima non c'era poi i corsi sono inclusi Scuola per Ricchi perché i corsi la verità sulle cose che insegniamo quella è ma il percorso consulenziale è un vero percorso è una vera scuola è un anno adesso forse si potranno fare proviamolo testiamo per vedere ovviamente che cosa piace ai nostri studenti e come seguirli al meglio ma è un'area è un ventre in ebraico rachamim questo è per mercaderi è un luogo dove tu sei effettivamente seguito step by step hai un tutor che risponde alle domande e che non è uno del customer service è veramente un tutor e queste sono le persone che hanno fatto consulenze negli ultimi anni e reso insieme a me le persone milionarie e si fa fatica a trovare ambienti dove le persone sanno quello che stanno che stanno facendo in ogni ambiente cioè tutti quanti ti possono dire io ti insegno a vendere informazioni ma tu sai bene che la realtà non dice questa cosa qua la realtà poi è diversa e quindi così quindi la big luca c'è l'aspetto formativo si chiama big luca international l'aspetto formativo si chiama scuola per ricchi della big luca international anche noi a livello di identità non possiamo rinunciare a questo brand perché dire noi siamo quelli di scuola per ricchi va benissimo quando stiamo facendo la formazione di scuola per ricchi ma a livello identitario la big luca international ha un respiro più grande anche perché include poi in realtà anche l'agency e il resto chiamato anche big luca group e se big luca torna o non torna a fare i video questa era la domanda di due ore fa giusto ok in realtà sì perché cioè io qualche video a volte mi fa piacere tipo adesso mi fa piacere fare fare questa questa intervista qua cicchinelli mi ha detto che è un servizio sociale il fatto che io torni a fare i video io sono d'accordo anche perché non vuoi lasciare terreno alle altre informazioni siccome io ritengo appunto di dire io e la mia azienda insomma delle cose impattanti belle vere le chiamano polarizzanti ancora devo capire cosa vuol dire sì no le due cose che mi sono costate molto molta attenzione due cose due video più polarizzanti alla fine poi la cosa su big luca su marketing business ma niente sono stati i video quelli sugli uomini e le donne dove ho detto che gli uomini e le donne sono diversi e tu capisci che come fai quello polarizza di brutto no che conferma abbiamo polarizzato no no invece nulla di falso no abbiamo anche dibattiti penso che le donne siano anche felici di essere considerate diverse da noi non lo so evidentemente non lo so non ho idea ma quindi dove ho detto delle cose che pensano tutto infatti io ho sempre poi la sfida se qualcuno non è d'accordo al posto di fare della domanda troviamoci col poligrafo esatto e vediamo e se voi non la pensate così uomini e donne quando poi il poligrafo dice che siete in disaccordo e siete sinceri allora poi possiamo iniziare a parlarne quindi così e questa è una frase polarizzante perché perché ho detto che non si deve mentire in satanica dove cazzo ok ricomponiamoci però e quindi tornerò a fare qualche video mi devo adesso hanno impacchettato tutto ma non pubblici video nuovi non lo so due mesi anche perché mi sono un paio di mesi probabilmente mi sono un po' riposato io ero molto stanco ero molto stanco e anche quando sei molto stanco rischi anche di di prendere delle decisioni affrettate questo va detto perché arrivi a un punto in cui ti rompi i coglioni e dici basta eccetera complice anche il fatto che faccio quello che insegno a livello patrimoniale quindi diciamo posso anche mandare però non è che tu chiudi e metti le persone in mezzo alla strada o comunque rinuncia anche al reddito voglio dire il fatto che io possa vivere di rendita non vuol dire che io voglia mangiare quello che mi rende e non guadagnare più business mi piace quindi no qualche video lo farò sarò sempre più assente dal grande blocco della formazione magari appunto se uno vuole Big Luca apriamo magari un mastermind perché la gente me lo richiede e anche a me piace stare aggiornato una volta ogni tre mesi io mi posso trovare con i milionari una volta ogni x mi viene qualcuno a fare la consulenza il problema non è quello il problema è tutto il resto lanciamo il corso col VSL lanciamo questa cosa qui delivera così fai di questo io ero già molto assente ma ero comunque ero comunque presente e anche mandare avanti altre persone è una cosa è una cosa utile dall'altro lato il personaggio e il personaggio tira quindi i business di informazioni senza un personaggio sono problematici ora noi abbiamo compensato questa cosa col sistema di affiliazione creando un metro in una scuola che possa essere sbrandizzata ma comunque ma anche che non ci sono io ci sono i miei sempre faccio sono perché è molto difficile farlo senza faccio ecco infatti perché avevo visto non mi ricordo se era il mese scorso o comunque qualche settimana fa che avevi cambiato tutti il tuo team aveva cambiato tutti i profili tuoi da Big Luca a proprio Scuola per Ricchi cioè non c'era proprio più scritto Big Luca poi penso che adesso siano ritornati Big Luca trattino Scuola per Ricchi questo passaggio l'avete fatto perché avete visto che in quella fase lì non c'era trazione allora YouTube ha avuto più reach ma meno su ogni video cioè sommando i video avevamo raggiunto più persone però meno in ogni video chiaramente c'è stato un fallout di visualizzazione ma questo è normale più che altro usare me come catalizzatore di traffico per poi promuovere chiaramente Scuola per Ricchi è la cosa che funziona meglio questo insomma non è una novità io tendo fai conto a sottostimare la potenza del mio personaggio cioè la gente pensa al contrario diciamo ah vabbè ma come Big cioè perché e adesso chi cerca Big Luca magari non lo trova e quindi in realtà siccome il personaggio è potente ma fa la stessa cosa anche Tony Robbins nessuno ha sbrandizzato completamente ci ho detto le vendite non ne hanno in realtà risentito quindi è un ragionamento anche che va che va guardato bene il vantaggio di essere comunque Big Luca e di poter parlare in modo super parties adesso di certe cose è un vantaggio quindi diciamo il nome è stato rimasto poi è un'inezia non cambia niente quindi ma poi magari qualcuno potrebbe hai ritornato è uguale ragazzi c'è scuola per ricchi e la delivery delle informazioni e l'esperienza formativa che è completamente diversa che è più completa cioè non c'è ripeto entrate e vedrete da da voi tra l'altro i feedback che abbiamo sono stati superiori sinceramente a quello che noi ci aspettavamo ho fatto la masterclass hai fatto la masterclass certo io non lo sapevo tra l'altro lo sapevo abbiamo la masterclass con Mick perfetto ma mettete almeno l'inizio della masterclass su youtube porca miseria il 28 era il 28 il 27 settembre tra l'altro era uno dei giorni in cui ero non raffreddato di più cioè calcola che è durata l'ho fatta durare tre ore e mezza mi pare tre ore e un quarto sì perché poi tu sei uno no io tre ore c'è modo infatti c'erano i tuoi quando hai finito ma mi spieghi come cazzo hai fatto che ti avevamo detto massimo un'ora e pensavamo di farti un torto sono abituati molto peggio l'altra volta dovevo fare 45 minuti io ho fatto un'ora e un quarto perché poi io adesso ho la live mensile con quelli del black però anche lì ci sono una serie ma mi fa piacere anche condividere di criticità anche adesso nel senso che per esempio adesso il black è la cosa centrale che non ha uno sbarramento patrimoniale quindi adesso il livello più alto della scuola non è sbarrato col patrimonio come era prima e quindi tu ti ritrovi persone che hanno pagato tanto che vogliono essere seguiti che hanno il pacchetto migliore con più corsi con più consulenze che magari però sono all'inizio e questa cosa va molto bene per chi avere un gruppo variegato perché talvolta le domande stupidine di chi inizia a noi possono farvi in mente un'idea dall'altra parte a volte io ricevo delle domande dove non sono la persona giusta anche perché mi nervosisco però dall'altra parte Big ma tu dieci anni fa otto anni fa sei anni fa avevi bisogno di questa informazione quindi da lì magari rintrodurre sono tutte idee io sto parlando ruota libera sto dicendo anche cazzi nostri aziendali che magari mio si mi tira le ore però per farvi capire anche come se ne parla non c'è la soluzione c'è un divenire i prezzi i pack sono giusti si riadatta si fa la cosa sta piacendo molto e la qualità anche perché è importante una delle cose a cui stavo pensando è che in realtà noi con scuola per ricchi vendiamo alle persone violiamo una regola quello che a loro serve ma gli devi far capire che è quello che vogliono certo perché a livello ragazzi di esperienza formativa comprare un corso stare in una scuola con degli esperti dove tu non puoi non studiare viene preso ragazzi non è una tecnica di copy dove è la piattaforma abbiamo fatto lo space repetition system quindi la piattaforma sa tu quel giorno di cosa devi fare immersione e ripetizione che è coniugata e congruente con la consulenza col professionista live che hai c'è un sacco di interazioni quindi ragazzi dall'altro lato magari è quello che dice sì ma l'ho insegnato il drop shipping e tu è frustrato perché non riesce a fargli capire che non esiste ha bisogno di capire che cosa sta facendo che poi coniugherà nel drop shipping e questo insomma adesso non devo penso di non doverti insegnare questa frustrazione qui però c'è e quindi questo voglio concludere e quindi le persone mi richiedono il vero livello perché il mio carnet di studenti privati fa ancora le consulenze con me però adesso il livello big luca sbarrato col patrimonio che era la cosa più apprezzata di prima l'avevamo tolto e non ho nessuna fretta di reintrodurlo però vedo una reintroduzione quindi proprio a che big luca è mastermind fine devi essere milionario sbarrato eccetera per il resto c'è scuola per ricchi dove la formazione è la formazione di big luca ma è deliberata da persone che hanno più pazienza più esperienza per quello che la maggior parte delle persone vogliono io non potrei per esempio ogni settimana stare dietro a qualcuno non ho la pazienza per farlo non ho il tempo e non ho lo sbatti quindi però vedete quando diciamo il business di informazione ragazzi non è non è facile poi una trasformazione del genere l'abbiamo fatta molto in fretta sono veramente fiero vorrei veramente ringraziare il mio team perché hanno fatto in due mesi una cosa che non era impensabile assolutamente però big luca si è ritirato e adesso lasciate per poi le persone appunto la big luca big luca è uscito dalla formazione centrale oltremodo e ho creato un qualcosa che un domani può essere anche venduto perché la formazione adesso è staccata dal mio nome esatto hai tirato fuori una parola che soprattutto nell'ultimo anno sei sette mesi cosa ho detto dropshipping ok allora voglio capire se tu stesso vivi la un po' la frustrazione di noi che abbiamo un po' più i capelli bianchi online io mi ricordo io ho vissuto una cosa abbastanza simile nel senso che di quella che hai raccontato tu cioè io stesso sono stato attaccato per anni ok tu in modo molto indegno sinceramente hai ricevuto attacchi secondo me molto ingiustificati anche secondo me e anche abbastanza aggressivi morbosi brutti anche in tematiche dove magari noi imprenditori poi abbiamo controllo fino a un certo punto nel senso poi se uno mi incula i soldi per esempio che cazzo posso fare se non stare zitto perché manco ne puoi parlare perché ancora devi capire se riesci a recuperare quei soldi che ti hanno inculato per esempio oppure no per esempio quindi non solo il danno ma pure la beffa però mi ricordo che insomma io venivo attaccato per delle robe che erano abbastanza cioè diciamo che il mio catalizzatore per che poi ha fatto iniziare tutta una serie ovviamente di attacchi è stato ad esempio che io avevo un funnel anni fa quello di cui hai parlato prima il webinar che funzionava funzioni chiave benino mi ha generato decine di milioni di euro veramente in maniera in automatico perché non c'era ancora il venditore non c'era bisogno per senza erano altri tempi e mi pare che la opt-in page fosse tipo ecco il sistema con cui acquisisco con cui ho il metodo X con cui ho fatto con cui faccio 3 milioni l'anno 10-30 clienti al gioco una roba del genere che era una promessa forse per l'epoca fin troppo azzardata cioè stai promettendo chissà che cosa nonostante il titolo fosse come io faccio non come tu puoi fare e questo ovviamente è arrivato un merdaio addosso eccetera eccetera che è durato un po' di anni e poi ormai insomma adesso saresti una vergine e quindi oggi io guardo com'è il mercato come si è evoluto e dico porca troia cioè nel senso io non riesco proprio a capire nel senso parliamone cioè perché il problema poi anche qual è stato e questo un po' un po' un rammarico di questa cosa qua io sono abbastanza me ne sbatto le palle di determinate cose se no non potremmo fare quello che facciamo però dall'altra parte non puoi negare che ti influenzano e questo è il certo no no ma bisogna metterlo sincero diciamo tanto se ne fregono sì viviamo segregati però ragazzi siamo umani siamo cyborg cioè ti influenzano poi è oggi è domani è dopo domani e influenza le decisioni di business a un certo punto ed è là che stava arrivando quindi io mi ricordo che a un certo punto tu calcola che io nasco come copywriter lo sai quindi tante email giornaliere broadcast stavi dicendo che facevo li facevo ancora io sul gabinetto dieci minuti era proprio una delle cose che non volevo delegare perché mi piaceva e soprattutto mi teneva sempre allenato per il discorso se un giorno io dovessi perdere tutto quanto almeno mandole in mezzo e non ho perso la skill per cui anche oggi ogni tanto magari mi faccio qualche vendita io faccio finta io ma è difficile e quindi ho iniziato a ammorbidire il messaggio quindi ho iniziato a dire guarda forse potresti guadagnare anche tu e piano piano smussa di qua smussa di là smussa di là smussa di là nel giro di un anno e mezzo è diventato un messaggio da fighette sostanzialmente quindi del tipo ah vabbè sì questo mi insegna il marketing punto e stop oppure mi insegna a creare il corso punto e stop nel frattempo ovviamente e non si può negare ragazzi che qua confermerai che come smussi il messaggio vendi di meno cioè non c'è esatto e questo ti denuncia che il mercato quello vuole anche perché se poi comprano con quel messaggio sono contenti non ti chiedo un rimborso quello è andato bene a casa mia e quindi poi ovviamente poi noi stessi abbiamo fatto diverse transizioni quello è stato il momento in cui siamo arrivati all'anno migliore che abbiamo fatto circa 5 milioni 2020 sì l'anno della pandemia è stato l'anno migliore però lì ho visto questa criticità ci ho detto cazzo cioè non voglio spingere cioè già non sto spingendo e cazzo mi attacco figurati se inizio cioè se inizi a promettere un guadagno se inizi a promettere qualcosa nonostante forse siamo quelli che possono veramente promettere sì esatto io ti dico senti figlio mio se tu ti metti qua 30 giorni e segui esattamente quello che ti dico di fare è impossibile qualcosa migliore dovresti solo dormire cioè dovresti solo dormire è impossibile che non guadagni cioè io ti posso sgiucare la mia casa quello che vuoi e te lo posso promettere ok e quindi vabbè poi abbiamo cambiato abbiamo nel frattempo stava nascendo lama eccetera eccetera quindi è stato il mio tra virgolette la mia transizione per una futura exit quello che è ma nel frattempo poi ovviamente smussa 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 si è lasciato spazio poi per tutti questi ragazzini che non fanno altro che ovviamente sporcarti tra virgolette il mercato che con le loro promesse effettivamente vanno un po' nel mercato di massa e quindi tu ti rendi conto che c'è un mercato di massa che da noi non ha mai comprato che fa generare veramente e a cui noi coscientemente non abbiamo mai venduto adesso ne parliamo perché c'è chi pensa non abbiamo mai venduto esatto e abbiamo scelto di non vendere registrate dove ti si dice tu non sei in target io 3000 euro non ti faccio spendere tieni comprati là è quello che ti pare ma tu da me non li spendi perché sennò poi ti ho dietro la porta tra 40 giorni mi dici ma erano gli unici soldi oppure scusarsi con una casalinga che ti arriva in consulenza e non si capisce come sia passata dopo due minuti Big Luca ci sono una schiera di ragazzini non facciamo ovviamente nomi per non fare ulteriori pubblicità certo ma sono più o meno probabilmente della stessa età più o meno stessa nicchia identica quindi e-commerce dropshipping store e via dicendo compromesse imbarazzanti nel senso guadagni in maniera passiva non devi fare niente guadagni sicuramente 10.000 euro al mese al 100% lo puoi anche far vedere i tuoi legali delle robe che tu dici ma in che cazzo di mondo stiamo vivendo e ricordiamoci che poi il grosso della spinta viene fatta dove non si vede perché poi questa è una cosa da capire bisogna e il venditore la telefonata dopo il copy però sono tutte cose che non si possono dire noi che conosciamo i livelli di profondità poi di promessa dal funnel principale ok cioè se tu su Instagram mi dici una cosa del genere quando questo ti arriva in consulenza ok tu che cazzo gli dici c'è per farlo strisciare perché poi il problema è che questa gente non si può dire che non fa soldi fa veramente tanti soldi ma io non lo so per via cioè lo so non per via dirette lo so per via traverse perché uno dei programmi che avevamo lanciato così proprio per bisogno a luglio era sulla vendita e in massa ci sono arrivati clienti che hanno comprato questo programma formativo che guarda caso vendevano o vendono ancora o vendevano adesso ti racconto anche questo aneddoto per alcune di queste persone venditori di queste persone quindi un giorno mi arriva il mio direttore commerciale che supervisiona un po' le coaching settimanali che fanno di vendita fanno dei play roll e arriva e fa io mi sono sentito anche un po' in imbarazzo perché questi non non sanno vendere e però io ho visto le fatture del mese cioè questi sono venditori che non sanno vendere che si portano a casa 20-25 mila euro al mese sanno vendere ma chiudono e per chi sanno vendere e chiudono e tre settimane da quanto lo fanno no vabbè da poco uno due mesi passati due tre mesi proprio forse sì settimana scorsa praticamente quasi tutti il 95% di questi in questi in queste call settimanali al mio direttore commerciale gli hanno detto no no abbiamo lasciato abbiamo mollato quel posto là di lavoro e via dicendo perché siamo perseguitati dalle persone perché siamo noi che gli abbiamo tolto i soldi e io non riesco più a dormire la notte quindi me ne sono andato ok questa è la situazione allora bene ho tante cose da dire posso stare qua per letteralmente mesi allora facciamo qualche disclaimer innanzitutto io io non voglio confermare e noi non dobbiamo dire che e questo messaggio va lanciato che solo perché uno è giovane e un ragazzino assolutamente non possa aiutare perché io ho anche senza fare nomi e cognomi certe persone che sono diventate anche famose con stereotipi sono ed erano molto ragazzini ma non sono ragazzini nel senso di sono stupidi o sono truffatori perché poi bisogna anche dare a Cesare qualche ricesa quindi ragazzino con Lamborghini un ragazzino che fa promessa non per forza non è una persona valida questo lo voglio dire perché bisogna bisogna anche essere giusto il ragazzino che dice che allora a me non dà fastidio la promessa perché comunque ragazzi la gente deve essere irretita e la gente vuole delle cose che sono innominabili cioè quando tu fai la promessa quella è l'equivalente di quando Big Luca ti dice sul video delle donne noi apprezziamo una moglie che è ubbidiente certo che è così ma che la vuoi disubbidiente non ho detto niente di ma il ah ma tu ti viene fuori come reazione della cosa innominabile che però tutti pensiamo io ho solo detto quello non ho detto schiava non ho detto stupido ho detto no ubbidiente che non ti crei dei problemi con cui si parla che stia al suo posto come tu stai al tuo cioè da certe parti sei tu ubbidiente quando sei in caccia ok ma è solo il dover menzionare la donna vuole l'uomo che la protegga ok basta si protegge anche la sua ma stacca perché aggiungere a queste cose è una frase normale no quindi sono tutte quelle cose normali ma innominabili e perciò degne di attacchi cioè quando uno dice guadagna passivamente comprati la lamborghini lui sta dicendo una cosa che molti vogliono perché le lamborghini creano così tanta aim perché quasi tutti vogliono la lamborghini signori non è vero che non la volete la volete come si spiega che quando ci metti una lamborghini l'ad costa di meno scusa su che target stai andando a questo punto dovrebbe costare di più non dovresti prendere l'idda big mare di l'idda vuol dire che qualcuno quella lamborghini risponde io non risponderei a quell'annuncio lì per esempio non mi piano si è bella la lamborghini è bella però nel senso non ho quel genere di passione quindi a me non dà fastidio e consiglio per chi avrà la bontà di ascoltare queste interviste lunghissime per chi poi vorrà magari prendere a cuore quello che diciamo per chi pensa che sia utile non lo so io non sono spaventato né dall'età né dalle promesse io sono spaventato dalla non delivery cioè tu mi prometti questo ok ma è vero esatto cioè è fattuale io quando vedo una persona che ha delle referenze poi lì bisogna anche bisogna essere ok ci sono referenze e referenze ragazzi ti racconta una cosa quando tu giustamente dici la delivery la delivery cioè bisogna innanzitutto bisogna dare il prodotto dare il prodotto per dire ti posso confessare che io ho comprato due tre prodotti sì da queste persone io so anche da chi ma non lo diciamo esatto da queste persone sono tre persone diverse stessa nicchia più gli stessi soldi vogliamo spiegare questo a chi non sa non sa tu cosa fai allora lui non ha ritegno quando lui vede o pensa che qualcuno abbia risultati lui bam va e compra cioè lui è proprio forma ma io ti stimo per questo lui non ha ritegno cioè tu vai la persona bam sì la cosa di solito paga forse esatto forse tutti i mastermind lui già esatto gli dico forse c'è qualcosa che non so per me è sempre una roba forse c'è qualcosa che non so quindi e tralasciamo il fatto che se io stesso con tutta l'esperienza che ho accumulato e via dicendo compro perché a un certo punto dico senti ma se lo dici in maniera così convinta forse sono io il coglione fammi comprare certo comprato hai comprato e poi il mio silenzio allora però io sono io nel senso queste persone sanno che io ho comprato e tu pensa alla faccia tosta e io sono io e tu pensa alla faccia tosta no? figurati la persona che non è nessuno passato in termini ok allora quindi facciamo un ragionamento organico per non scadere nel ah tu ti fuffa che poi non si capisce mai cosa voglia dire questo termine però facciamo un ragionamento organico quindi non mi dà fastidio il ragazzino che ci sono dei ragazzi in gamba ragazzi certo confermo che molti ragazzini fanno solli sì sì quindi e ce ne sono anche di bravi che hanno delle agency alcuni sono nostri studenti adesso penso il buon Thomas cioè veniva da me che aveva 18 19 anni ma senza parlare di personaggi conosciuti io lo chiamo il mio cicchinelli che è mio cicchinelli non è di nessun altro se non mio e il nostro ex CEO ragazzi lui è venuto a Dubai che non gli aprivano i conti in banca perché aveva 19 anni gliene servivano per certe banche 21 e lui è uscito dalla Big Luca milionario adesso c'è la villa cioè quindi senza guardare e non sapete neanche più o meno che faccia abbia quindi e faceva il CEO e faceva ma il CEO ha 19 anni e prima mi portava il caffè poi è andato avanti che ti devo dire perciò ci può essere qualità eccetera non mi danno fastidio le promesse mi dà fastidio la non delivery quello a cui voi dovete stare attenti è la non delivery del prodotto e del servizio e questo è un tema e quindi molti ci sono operatori che una volta che voi li pagate semplicemente non vi rispondono più non so neanche in questo non sono aggiornato non lo so fino a che punto ricevano pubblicamente più attacchi di noi per esempio da quel che mi risulta zero ecco quindi tu già capisci non me la sono spiegata ancora allora io diciamo so alcuni perché poi disclaimer così almeno ci mettiamo a posto è possibile che uno o più di questi operatori siano miei clienti ok non è un segreto che molti operatori per non dire tutti prima o dopo da big luca ci passa lo sono stati prima lo sono durante alcuni sono stati un po' raddrizzati io per esempio non faccio consulenza con chi poi si comporta così ma cioè spingere una cosa truffare un'altra alcuni li ho anche fatti ravvedere allora alcuni hanno schiere di legali molto aggressivi che minacciano e pagano più di centomila euro all'anno per fermare le querele le denunce eccetera devi anche capire che la persona che si presenta come ricca che vende alla casalinga dicendo non dovrà neanche aprire il computer e farà soldi sì c'è chi lo fa e poi questa si trova contro un avvocato che fa il gradasso le persone si spaventano e quindi spaventano non solo ma nei contratti cosa che io non ho per esempio manco io hanno la clausola che se tu compri no io non è che non ho i contratti cioè no 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 non ho quella clausola allora hanno la clausola che tu non puoi parlare male del corso cosa che per esempio io non ho per esempio se i miei corsi facessero schifo con l'entità del numero dei corsi ma non massacrare cioè non potrei uscire di casa nel senso sarebbe impossibile riceverei violenza fisica avrei paura veramente per la mia incolumità quindi hanno questa clausola e hanno avvocati molto aggressivi conosco i numeri che fanno spacciano la cifra mensile fatta un mese per la cifra mensile vabbè questo niente di nuovo sotto il sole cosa che dovrei fare anch'io visto che faccio 240 mila euro al giorno perché l'ultimo giorno di lancio fa 240 mila quindi al giorno faccio 240 mila e non sono così ricchi alcuni hanno accumulato della buona liquidità non è il modo di comportarsi nel senso che ci saranno ma non sono online con i corsi sono truffatori cioè non sono dissimili da quelli che vanno porta a porta a fregare le vecchiette eccetera noi per policy non lo facciamo noi siamo molto molto cauti per esempio io in azienda ho casalinghe no state tranquilli e calmi noi abbiamo fatto delle non vendite ragazzi avessimo voluto spingere un'altra roba noi abbiamo spinto su imprenditori liberi professionisti o comunque persone che in consulenza in chiamata li vedi che sono in gamba l'ordine ragazzi la casalinga spiantata infatti viene arrivata una in consulenza dopo due minuti fa io sono una casalinga sono senza lavoro dimmi tu guardi signor ho la registrazione io non so come sia arrivata da me mi scuso io perché è stato un errore nostro il venditore non avrebbe dovuto venderle questa consulenza perché io non parlo con ma che cazzo dici cioè non c'è niente ma che cazzo dico e ho detto guardi si è tranquilla verrà rimborsata subito o rimborsata e dei corsi o facciamo un'integrazione ma riceve subito un bonifico mi scuso personalmente di questa cosa però non ho altro da dire infatti lei fa ho imbarazzato big luca ma che cazzo hai venduto scusa cioè con me e quindi c'è questo c'è questo problemino e fanno tanti soldi relativi nel senso che sentiamo di 500 mila al mese 800 mila al mese quelli sono numeri fatti un mese di dell'entità della prima rata e cioè del firmato non del cash c'è anche chi ti chiama cash quello che cash non è quella è revenue teorica del nulla ok quindi poi bisogna anche un attimo smitizzare però ci sono anche questi comportamenti il modo migliore per fregare le persone è sul done for you questo lo diciamo da anni perché chiaramente il done for you è il massimo del tu non fai niente facciamo noi quindi tu non hai responsabilità e facendolo noi costa di più ed è chiaro che a 5 mila alla volta 3 mila alla volta che nella nostra nicchia un done for you non potrebbe mai costare 5 mila euro o 25 mila quindi ok e quindi ti fregano così è sbagliato mettere tutti nella stessa il problema è che io mi rendo conto dall'esterno tutti mettono queste persone nella stessa categoria cioè essere sinceramente messo nella categoria di persone che si comportano così semplicemente se permetti non mi comporto così io non frego niente perché bisogna anche un attimo tornare a dirle certe cose non è tutta truffa tutta fuffa e tutti operatori scorretti ci sono delle scuole di formazioni serie degli operatori seri anche operatori singoli magari piccoli che sono competenti che sanno il fatto loro magari dei copywriter dei media buyer o delle agency e le cose stiamo calmi voglio dire la cosa è che magari non so se dovremmo combatterli perché non è neanche il nostro lavoro cioè quando tu fai il nostro lavoro ascolta già io ho il mio c'è quell'operatore che si comporta male io posso essere una forza positiva dandoti invece un'offerta formativa seria dove hai un customer service serio dove hai dei consulenti seri dove le informazioni funzionano perché lo dicono centinaia di referenze trust pilot e i video dove la gente ci mette la faccia oltretutto gente anche verificabile e le testimonianze il mastermind della gente che parla persone in carne ed ossa e l'evento e le cose di più non si può non si può fare però il messaggio è che tutta gente che sparisce perché a un certo punto se i clienti non sono contenti quanto durerà ancora no ma guarda che il loro lasso è tra l'anno e l'anno e mezzo alcuni sono già praticamente finiti durano un anno e mezzo soprattutto questa è la cosa che capita questo lo spiegai a un ragazzo di cui non faccio il nome che è arrivato in consulenza da me che aveva un business che già stava funzionando però aveva 40 mila euro da parte è arrivato da me circa un anno dopo a un milione e due l'ho visto succedere non è normativo ma succede e lui ragazzo giovane in gamba con la faccia anche da bravo ragazzo se sai notare certe cose sì se non ho ok però è un bravo ragazzo una brava persona una persona che mi ascolta e loro si frequentano tra di loro a Dubai questo è un enorme problema io gli ho detto ok tu adesso era già borderline ok una delle cose borderline che fanno per esempio e lui lo faceva è di fare i prezzi per le tasche delle persone io gli ho detto se tu vuoi fare incazzare qualcuno fai i prezzi per le tasche delle persone e cioè vendi lo stesso servizio io ho capito è chiaro che tu hai comprato tante cose da me hai speso 20 mila euro e quindi ti faccio lo sconto ma lì siamo nel buon senso lo fa qualunque azienda il buon cliente l'hotel che ti fa l'upgrade allora c'è uno che però sta pagando di più va bene ma lì siamo nel regime della ragionevolezza ma tu non puoi vendere la stessa cosa a 5 mila o a 200 e se uno ti dice quanti soldi ho 10k dammene 10 perché fanno così quindi smettila il problema è che frequentandosi tra di loro loro hanno la percezione che quelli che fanno i soldi online facciano tutti così ma lo fanno tutti no non lo fanno tutti per la misera sono tutti quelli che frequenti tu e questo è importante ok sono tutti quelli che frequenti tu e nessuno di questi ha idea di che cosa sta facendo non hanno patrimoni non hanno alcuni si sputtanano anche i soldi da parte perché sono ragazzini che hanno iniziato a fare soldi li hanno fatti perché un milione via sono soldi ragazzi è inutile ma non avete la minima poi li perdono nella cripto del ponzi ho incontrato uno che mi ha detto facciamo la società immobile perché non hanno idea di che cosa stanno facendo no tutta gente che se li sputtana in puttana e macchine anche lì sai nel consulenza a volte senti ma prenditi un esempio di qualcuno che magari poi molti vengono da me dicono big io vorrei in realtà una moglie trovare una ragazza ma certo che lo vuoi perché dopo un po' ti rompi le balle ok i tuoi amici che escono con le modelle spieghiamola quella cosa lì perché c'è chi non ci è arrivato ragazzi non è gratis quella roba lì ok va bene dai per carità però e focus via si può essere anche sono un uomo anch'io voglio dire capisco però a un certo punto vuoi costruire non c'è costruzione tra quegli operatori lì perché fare i soldi è una cosa costruire un'azienda costruire un patrimonio è un'altra quindi alcuni li ho richiamati tutti i vari nomi da me ci sono passati ma con alcuni per esempio ho smesso e non ho più voluto andare avanti senti ascolta tu fai sta roba cioè io lo spingere lo capisco però io spingere e abbellire di molto e strecciare se poi c'è il sottostante lo facciamo perché poi c'è il sottostante guarda ok no le truffe no non è purtroppo io ho fatto anche dei corsi il famigerato guerra psicologica che è stato mal interpretato dove ho spiegato delle tecniche e poi tu fai box ok e tu puoi fare box per andare sul ring per difendere tua moglie oppure per uscire vabbè a Dubai magari è un po' difficile ma se torni a Roma per picchiare la gente e sfilargli il portafoglio allora se io non lo so e ti ho insegnato la box è un conto se poi tu torni e mi dici ah bella coach tiro i pugni alle vecchiette per rubare e dici no aspetta un attimo io non ho fatto questo lavoro qui quindi poi c'è anche quello però sì ce ne sono diciamo c'è da stare attenti la cosa è affidatevi ma in qualunque necchia persone recensite che abbiano delle testimonianze e guardate le testimonianze chi sono chi non sono cosa dicono sono testimonianze tra virgolette certificate o sono magari solo foto questa è una cosa io dico ci devono essere anche dei video no noi abbiamo parecchi video perché il metterci la faccia e il parlare che è difficile ottenerli perché prendere cioè noi siamo abituati ma dire metti di fronte a una telecamera parla dei cazzi tuoi soprattutto di soldi non è che sia proprio facilissimo e e li devi avere un po' l'occhio lungo diciamo però il problema c'è io penso che però lo si esageri la cosa che mi dispiace è che tutti vengano messi nella stessa praticamente quindi non ci sono più gli esperti esatto perché è questo poi tutti i guru sono truffatori tu sono fuffari ah dico la fuffa la cosa e quindi è fantastico quindi tu da chi impari e quindi non c'è più l'esperienza è per te abbiamo eliminato tutto con un colpo di spugna cioè stiamo un attimo un attimo attenti e quindi insomma un po' così big domanda è un po' personale ma può essere anche ispirazione di ispirazione per qualcuno vai penso che ognuno di noi abbia un numero in testa sì a cui vogliamo arrivare qual è il tuo numero a cui vuoi annivare se c'è un numero e se una volta arrivato lì smetteresti completamente di fare qualsiasi cosa allora non ho un numero perché il numero poi quando ci arrivi vuoi l'altro numero quindi quando uno pensa che la tranquillità sia un numero è un problema io ho più numeri intermedi tipo adesso io ho x immobili e voglio per esempio raddoppiare entro l'anno prossimo questo è il mio obiettivo ho un numero mensile di investimento di cash non ho per esempio più ma non ho mai sinceramente avuto il desiderio tipo io non ho il desiderio di fare grandi aziende quotarle cdac quando comincio a sentire queste cose no io voglio aziende piccole cattive profittevoli che mi sganciano il dividendo e anche perché mi sono accorto nella sai chi ha le aziende grandi o l'azienda da 100 milioni sì ma quando stringi un attimo gli togli i soci gli togli il lordo gli togli cioè io guadagno come un industriale praticamente quindi non ho neanche nessun senso di inferiorità c'è chi guadagna molto di più a Dubai sei sempre il più poverso oh ragazzi io con la sfida lì non la faccio più quindi io sono nato povero ho accumulato un bel po' continuerò a accumulare sto bene raga io non sono nato miliardario non faccio neanche finta di esserlo no sono miliardario magari non ci arriva e quindi cioè una volta che tu hai comunque se parliamo di patrimonio il consiglio che posso dare è di arrivare velocemente a un patrimonio tra i patrimonio netto si parla di soldi che poi vengono investiti in asset tra i 3 e i 5 milioni almeno decente se riuscite a arrivare a 10 che comunque sarà un po' lunga è piacevole e la cosa che io consiglio è di crearsi un floor un minimo di passività che entrano vere quindi alcuni immobili a reddito qualche itf condividendo e poi lì siete siete tranquilli quindi ad oggi non ho un numero che voglio colpire ho più un numero intermedio che voglio colpire con gli immobili con chiaro e adesso ragiono con numeri un po' un po' diversi cioè io ho già delle passività comunque importanti che mi entrano ho perso la malattia della ricerca del numero il vero passivo eh? il vero passivo no 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 esatto e quella no vorrei lasciare questo è importante guardate che poche persone ci pensano a questa cosa ed è un dramma ed è un dramma perché il pattern che vedo anche di gente che guadagna tanto è che hanno via sì un pochino magari molte volte in cash e poi il resto lo spendono però è pericoloso capisci è pericoloso cioè io associo comunque il denaro il patrimonio alla sicurezza e non c'è niente di male per esempio cioè a me il ragionamento di no vai avanti a cazzo dur che poi vai avanti e diventi povero e ho 50 milioni o 100 milioni niente io sento dei discorsi che sono preoccupanti e poi non si tramutano purtroppo in un'oggettività non vedo la concretezza ne parlavo l'altro giorno con un mio diciamo un mio collaboratore molto molto ricco non della formazione non c'entra niente e che parlavamo di chi parla di fare exit da 50 a 100 milioni lui è in quel in quel mondo lì che non è il mondo delle start up è il mondo del private equity che sono due cose diverse qui dovremmo fare un video su certe cose ma lasciamo perdere e lui dice 50 milioni non è che te li dà cioè non è ovvio quindi fare una vaola spacca per dire faccio l'exit da 30 milioni o 50 milioni o 100 milioni cioè da capire che già non è normativo mettersi in tasca un paio di milioni sicuramente non è normativo farne 30 si possono fare però dire sono povero finché non ne faccio 30 o 50 non è una cosa che io vedo funzionare quindi l'accumulo progressivo non è da sfigati è da veri ricchi e non state a guardare Elon Musk che si sveglia a comprare Twitter per 40 miliardi quello è un altro livello grandissimo rispetto grandissimo rispetto ma non è non è l'obiettivo che è inimitabile e soprattutto fatevi qualcosa oltre al business cioè io oltre al business ho un sacco di adesso facendo il master cioè leggo studio faccio brigo anche oltre oltre al business quindi fatevi anche degli altri interessi grande oh big è stata una bellissima intervista grande era tanto che non ci vedevamo siamo sempre più grossi sì tu soprattutto anche se io peso di più quindi sono più pesante grande grazie dell'invito e di che grazie